Eccoci in onda, eccoci qua, arriviamo in corsa praticamente su Twitch perché mi sono accorto che stavo inviando il segnale al canale sbagliato e quindi ho dovuto correggere in corsa praticamente ma non avete, siamo entrati sulla sigla quindi non avete perso assolutamente nulla. No, tra l'altro mi scopisco di me stesso per la, come si dice, la bravura nell'entrare nello stesso momento in cui stavo finendo la sigla Mi faccio comunque una facca sulla spalla Sei perfetto, esatto, buonasera Mattia di noi, buonasera Pronti a parlare di quello che è successo nella puntata di ieri sera di Moneletro? Una puntata abbastanza strana tutto sommato, non voglio dire necessariamente brutta, magari un po' noiosa su certi abiti L'ho trovata una puntata strana, cioè c'è la costruzione di Survivor Series che continua ad essere abbastanza perplimente Se vogliamo utilizzare un eufemismo, mettiamola così, la nota positiva quantomeno è il fatto che comunque stiano provando delle cose nuove O perlomeno stanno tentando di mettere in piedi delle rivalità quantomeno che fino a questo momento non avevamo visto in WWE Questa è sicuramente una cosa positiva, poi vedremo ovviamente il risultato finale Però per quanto riguarda quantomeno le storyline, le rivalità che si stanno creando, qualche piccola novità quantomeno c'è effettivamente durante lo show Non tutte, però qualcuna effettivamente c'è Quello sì, quello sì, ma infatti ma ti dico, Roda dal post draft secondo me stanno facendo stranamente un buon lavoro Cioè è molto migliorato rispetto a quello che era neanche un mese fa, nel senso che un mese fa era veramente... C'erano delle puntate che erano carucce però diciamo che era il 90% delle volte era uno show inguardabile Adesso nell'ultimo mese e mezzo stanno facendo, nell'ultimo mesetto, stanno facendo un buon lavoro secondo me Almeno di resa dello show a livello di guardabilità perché praticamente hanno deciso di puntare tanto sul resting ottato con match lunghi Sì Che è una cosa che non facciamo E va detto, ieri sera ce ne sono stati, diciamo, forse da quel punto di vista si è forse un po' esagerato Nel senso che alcuni match li ho trovati forse troppo lunghi Però il main event, al di là del fatto che il main event è finito in merda, però a livello di finale Però, allora, è strano da dire, però è stato il risultato giusto secondo me No, 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 sì, per la storyline sì, dico solo che si poteva arrivare probabilmente allo stesso finale in altro modo Però va bene, cioè alla fine, a livello di storia ci sta effettivamente che finisse in quel modo quantomeno O con un modo simile Adesso arriviamo in onda, cioè arriviamo in onda, arriviamo in video perché più che altro ho un piccolo problema con la webcam Quindi non funziona la webcam in questo momento, il tempo di scollegarla e ricollegarla dovrebbe andare a posto Vedete solamente Mattia in questo momento con la chat Ciao, la mia bella faccia Stavo guardando i dati di ascolto 1.549 però 1.549.000, mi sa che hanno perso al quanto rispetto alla settimana scorsa 12.001.000, il solito fa 11.007.000, 11.008.000, diciamo che può avere un pochettino Ah no, ah no, ah eccolo qua, eccolo qua il motivo La prima ora ha fatto 1.654.000, la seconda 1.621.000, la terza 1.373.000, hanno perso tantissimo dalla seconda alla terza ora E cosa c'era? Boh, il main event era Owens contro Rollins No, dicevo, c'era qualcosa di particolare magari una partita del football No, il football è iniziato Eh, ho capito, ma Cioè, va detto, è un calo È un calo normale per quanto riguarda Roda la seconda alla terza ora Però In questa quantità Quando parti da 1.6.000 In questa quantità Raramente è successo È un bel calo è dalla seconda alla terza ora Eh sì, ma è bello forte Cioè, dopo due ore la gente ha detto Ok, ok, basta e vado a dormire Cioè, molto semplicemente credo che sia Allora, lì rientra anche il discorso che è uno show Veramente mastodontico e lungo Quindi lo posso anche capire che la gente vada a dormire e metti la visione Sì Sotto quell'aspetto Sì Dall'altra parte ti dico Boh, cioè, è un È vero anche Se posso Se posso Se posso dire È anche vero che Solitamente Come posso dire Solitamente per quanto riguarda Questo periodo Questo è il periodo in cui comincia L'ora solare Praticamente, no? Sì E c'è comunque un Diciamo Un andamento Cioè, possibile che fosse magari legato anche a quello Probabilmente Perché comunque c'è una Lo si vede per esempio da marzo ad aprile Da marzo ad aprile Da marzo ad aprile quando poi si cambia di nuovo l'ora Diciamo L'ora più vista diventa Diventa la seconda Praticamente Spesso Perché la gente rimane più fuori Qui probabilmente la gente torna prima a casa Magari ma anche prima a dormire Non so Cioè, non so darmi una Una spiegazione Cioè, è vero che dopo due ore Normalmente c'è un calo Ma così tanto Da un milione e sei e ventuno Uno e tre sette tre Onestamente non lo ricordo Anche perché più che altro Se guardi Sai cosa? È anche È anche interessante Ovviamente Sendoci un calo così tanto Sono crollato ovviamente Tutte le fasce Praticamente A livello demografico Perché per esempio La fascia dai 50 Dei 50 anni Dei 50 anni in su Praticamente è passata Da 0,86 A 0,76 La 25,54 È passata da 0,58 A 0,48 La 18,49 Da 0,43 A 0,34 Cioè, proprio sono andati via in blocco Praticamente L'unica spiegazione È che sono andati a dormire Cioè, è l'unica L'unica cosa che mi viene Che mi viene a dire Perché comunque Non penso che siano spostati In blocco Dal resting Al football O altre cose Semplicemente Dopo due ore È detto basta Cioè Che li capisco Eh Che li capisco benissimo Oggettivamente Però Non Bisogna Vediamo nelle prossime settimane Come procede la cosa Se si assesta O se è stato un caso Credo sia Il peggior dato Numerico Per quanto riguarda La Davide B Però Da un bel po' di tempo Questa parte Se non è addirittura Il peggioro in assoluto 0,34 Come demo Per la terza ora Quanto meno È molto molto bassa La media 0,44 Più 0,43 È 8,87 Più 34 121 È 0,40 La media Praticamente Sulle 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 tre ore Vediamo Dynamite Cosa fa Mercoledì A livello di A livello di ascolti Non penso che sarà Tanto lontano Però tutto Vediamo Magari sbaglio Però vediamo Cosa Però bisogna anche Tenere conto Che Dynamite Diciamo Al fatto che Comunque Sono anche alle 5 Nella costa ovest Un pelinino Gli sta Gli sta portando via Però effettivamente È una buona occasione Mercoledì Per fare Un dato Quanto meno vicino Magari non tanto A livello A livello di ascoltatori Ma a livello di demo Possono effettivamente Avvicinarsi A una 0,40 Stemana scorsa Avevamo fatto Vado a prendere Il dato di Settimana scorsa Vediamo un po' Cable ratings Eccoci qua Vediamo un attimo Il dato di Mercoledì scorso Dynamite Aveva fatto Dynamite Aveva fatto 0,33 Ecco 0,33 Con 878.000 Quindi comunque Non Non lontanissimo Tutto sommato Da una 0,40 Pur con Metà ascolti Praticamente Alla fin fine Quindi comunque Non un brutto dato Vediamo domani cosa fanno Vediamo domani cosa fanno Con la puntata Pre Pre Payperview E di che dice La spiegazione Era talmente noioso Che alla seconda ora La gente si addormenta E le tv si spegono In automatico Per inattività Sì ma no Ma non Cioè Si addormentano molto prima Allora Probabilmente Alla fin fine Perché Si addormentano All'inizio della seconda ora E poi alla terza Praticamente il tv Si spegne Alla fin fine Vediamo Vediamo che Vediamo cos'è No È un brutto dato Purtroppo Però Però vediamo Non so neanche dare una spiegazione A livello di qualità Dello show Cioè nel senso Ieri sera Ieri sera L'ho trovato Un po' noioso Se vogliamo Però Cioè O O veramente Sono nativi anche Durante la terza ora Per quel lunghissimo Match femminile Che Ok Era di in 5 Quello che vuoi Ha portato veramente Tanto lungo Quel match E anche il main event Il main event È entrato in Sono entrati sul ring E c'erano ancora 35 minuti Per la fine Dello show Quindi Poi avevano fatto L'angle con Teori Avevano fatto altre cose Poi il match Avevano iniziato Per 7-8 minuti Però sono arrivati Molto molto presto Quindi Boh Non so neanche Spiegare È stato bello lungo Anche il main event Poi vabbè Sui risultati Parliamo dopo Alla fine Sì lo so che non mi vedete Perché c'è un C'è un problema con la webcam Adesso appena Possibile lo sistema Ci sono un po' di mosse strane Da parte della Dabida B Sicuramente originali Nel senso Nel senso che comunque Stanno provando Un pochettino di cose Di cose Di cose un po' diverse Per quanto riguarda Per quanto riguarda Per quanto riguarda I raster Le storyline Gli allineamenti Eccetera eccetera Non sono un grandissimo fan Personalmente Dell'idea di avere Due figure di autorità Il Perché la figura di autorità Il mi ha abbastanza stancato Francamente Quindi Non sono un grande fan Di questa Di questa Di questa cosa La scelta per esempio Di girare il doodrop Ok Se serve a togliere Innanzitutto Questo nome ridicolo Tanto di guadagnato In secondo luogo Dall'idea di Dalla medaglia Ok Tu hai fatto una storyline Dove questa è stata bullizzata Per mesi Appena finisce la storyline E intanto Licenza anche l'altra La giri C'è qualcosa che Non mi torna Di questo Di questa Di questa gestione Quanto meno Però Se è un modo Cioè Se è un modo per farle fare qualcosa Tanto di guadagnato Perché lei è brava Dall'altro lato Penso anche che sia però Diciamo Han trovato la vittima Sacrificale del mese Per Bianca Belair Perché va in fida con lei Il match però Non dovrebbe essere male Quello No Il match sarà bello Non penso far male Vai Almeno La metto in questo In quest'ottica Che secondo me Comunque Sì Almeno Fare qualcosa di diverso A Doudrop Fare qualcosa di diverso A Doudrop Che comunque Se rimaneva Babyface Non faceva un cazzo Sì Perché comunque Non faceva moltissimo E due Secondo me Ha ragione Doudrop Ha ragione Ha ragione Piper Non voglio chiamarla Doudrop Non vuoi chiamarla Doudrop Ok va bene No Mi riuscire Ti chiamava Doudrop Perché Doudrop fa cagare Ok grazie Dicevo Ha ragione lei Perché comunque Per quale stracazzo Di motivo Bianca merita Un'altra title shot Cioè Alla fine Il crucio Del motivo Per cui è girata È perché Quando era nel backstage Bianca fa Ah io mi merito Un'altra title shot Ti fa Che cazzo Dici che hai perso In continuazione Hai rotto il cazzo Eccoci qua Fai andare noi Cioè Nel senso Alla fine Le ragazze Che si lamentavano Che Bianca Aveva Allora A parte che Tipo Tipo Dana Brooke Che onestamente Non è neanche tutti i torti Dana Brooke Francamente Perché comunque Lei è quella No Perché per un semplice motivo Non hanno torto Per un semplice motivo Allora Per quale motivo Queste sono Allora Il ragionamento Che ho trovato stupido È che Dicono Ah voi cinque Siete nel team di Ro Quindi vi affrontate Per andare Per vedere Chi va contro Becky Dall'alto di cosa Dall'alto di cosa Queste Devono fare Un match Cinque Contro Tutte Contro tutte Perché loro Vadano contro Becky Non ha più senso Trovare un avversario Di Becky In quelle che sono state Escluse dal match Sì Non ha più senso In teoria In teoria Effettivamente sì Anche perché Il discorso è Se Poi parliamo Poi parliamo Poi parliamo Della questione Team Di Survivor Series Perché hanno fatto Anche un'altra cosa Ieri sera Quello di Lashley Su Lashley Io sono d'accordo Sì Cioè È un segnale Cioè È quello che mi ha fatto Anche Ulteriormente Pensare Che stanno girando Ila Dan Pierce Perché più che altro Lui che esce Dice Anche se Va detto che Ci fa ridere Il fatto che un pochettino Abbia ragione Lui che dice Fai schifo al cazzo Che dobbiamo Sei nel team Ma se resisti Ma solo se resisti A questo massacro Questo mi ha fatto Abbastanza Abbastanza ridere Come cosa Va detta una cosa Il turnillo Comunque i sottotoni Di T. Il Di Adam Pierce Erano già cominciati A Smackdown Con quel promo Fatto da casa sua Dove diceva Nessuno Mi mancherà più di rispetto Queste cose qua Quindi Non è una cosa Che si è concretizzata Ieri sera Però era già cominciata Praticamente Questa cosa Diciamo che ieri sera C'è stata un ulteriore conferma Mettiamola Mettiamola così Poi possiamo parlare Possiamo parlare una vita Sul fatto di Di Pierce Che dice Voglio che voi vinciate Quando lui in realtà Di rigenerarmi gli show Quindi che gli frega Praticamente Di questa cosa Tu hai una spiegazione E non è sbagliato Cioè Non sarebbe male Se da girassero In questo In questo modo Cioè Praticamente Ne abbiamo parlato stamattina Tra di noi Lui Mattia sosteneva Che per lui Praticamente Potevi fare Una competizione amichevole Tra Tra Diciamo Una competizione Non tanto amichevole Sì Cioè Del senso Mi dici Il team di Raw L'ha scelto Pierce Il team di SmackDown L'ha scelto L'ha scelto L'ha scelto cosa L'ha scelto Cosa Sonia 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 E i due Si affrontano In E i due Praticamente Devono decidere Chi è stato quello più bravo Che Ci starebbe Anche in spiegazione Cioè Alla fine Dai una spiegazione Perché Chi cazzo ha fatto questi team Invece che farli a caso Solo che non lo faranno Cioè So già che non lo faranno Eh infatti Cioè Più che altro Puoi anche farla così C'è un problema però Ok Uno dei due vince E poi Cioè Finisce qua O Cioè Lottano per niente O lottano per qualcosa Alla fin fine Perché se Se poi non ci sono conseguenze Lascia un po' il tempo che trova Come sempre Del resto Cioè Alla fin fine Cioè ormai Credo che Credo che Negli ultimi mesi Ci hanno Ulteriormente Confermato che È anche abbastanza inutile Pensare A una WWE Che Trovi Non tanto un senso Ma una spiegazione Nelle cose Nelle cose che fa Vedi la terza corda Di Finn Balor Per esempio Che mi sa che Aspetteremo Aspetteremo Fino al 3.018 Probabilmente Per una spiegazione La cosa che mi fa Che fa più incazzare Secondo me È che ci sono Delle volte In cui ti tirano fuori Dei colpi di genio E della continuity E delle volte In cui si rimbattono il cazzo Esatto Sì Perché Per fare un esempio La storia di Owens e Big E Io ho letto Gente che diceva Owens gli ha chiesto scusa E il sedicente Babyface La compagnia Non l'ha accettata Non ha accettato le scuse Owens gliel'ha chiesto Quattro volte Come cazzo lo bucano Chi l'ha scritta Sta cosa Ma un coglione Su Facebook Vabbè ok Lasciamo stare Dotto in maniera cattiva Però Leggi queste robe qui E dici Ma cazzo Ma voi Nella storia Della WWE È vero che Owens è due anni Che è Babyface Ma Owens è anche quello Che Alla prima occasione Pur di vincere un titolo Pugna la Alle spalle Chiunque No più che altro Il discorso Il discorso Del sedicente Babyface Tutto il resto Cioè Lo si capisce La situazione La capite solamente Guardando i segmenti backstage Con Scusatemi Con Con Kevin Owens Perché nessuno gli crede Cioè Non è che Non è il Babyface Cioè Lui che chiede scusa Tutto il resto E Comunque Una situazione Dove lui perde la testa Anche perché Nessuno gli crede Cioè Poi magari può anche Cioè Cioè è il classico Il che crede Dove avere ragione Magari ha anche ragione Però È il modo in cui lo fa Che comunque Lo fa passare La parte del torto È la logica È la logica Di Jericho C'è la logica di Jericho Quando Quando girava Ma poi Ma poi Comunque Anche se tu vai a prendere La storia di Kevin Owens In WWE Lui È vero Negli ultimi due anni È cambiato Però Se vai a prendere Le esperienze Che ha avuto Big E Con questa persona È logico Che non si fidi Anche se questa persona Gli continua a dire Io sono cambiato Io non faccio più Le cose di fine Esattamente Questo Ha pugnalato Alle spalle I suoi migliori amici È logico Che non gli credi Cioè Alla fine È Ma io La roba che mi fa Sempre ridere Di tanta gente Che rompe il cazzo È che la gente Si lamenta Ma in qualunque cosa Nei film Nel resto Nel serie tv Di quando i personaggi Vengono scritti In maniera umana Nel senso che Si lamenta Che un personaggio Non si fidi Di qualcun altro Anche se L'altra persona È Cambiata O è buona O si pone In una certa maniera Umanamente Non è detto Che ti fidi Di tutte le persone Soprattutto se Quelle persone Arrivati Hanno fatto qualcosa O comunque Avuto delle esperienze Con quelle persone Che non sono andate bene È una stronzata Ma Cioè Il fatto che Che Big E Non si fidi Minimamente Di 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 Cosso Di Owen Va benissimo È normale Esatto Esattamente È normale Ed è il motivo Per cui Praticamente Per cui poi Praticamente Owens Owens ha perso la testa E Ha poi attaccato Certo Ha fatto Gli è costato il match Tecnicamente Se andiamo Se andiamo Se andiamo a vedere Anche lì Qui diciamo La situazione di Owens Mi sa che sarà Diciamo Anche lui Abbastanza vittima Sacrificale Se vogliamo Non mi ricordo Chi ha scritto Oggi tra di noi L'idea Diciamo Di Owens Che fa perdere Il titolo A Big E L'ho trovato Su Su Facebook Ma era un bel Booking Non è sbagliato Non farei perdere Il titolo Già a Big E Però Non è Un piano Poi così brutto Ho letto Piani peggiori Francamente Non farei Non farei Perdere Big E Cioè Più che altro Il discorso Di non farei perdere Big E E Capire cosa hanno Intenzione di fare Con lui O resta il meglio Nel momento Nel momento In cui si capisce Quello Allora Vediamo Si capiscono Anche le intenzioni Cioè il tipo Lo proteggiamo Fino a resta il menia Perché deve fare Un match Molto molto importante O O niente Cioè E allora Rimane campione Fino a resta il menia O Magari fare un passaggio Di consegne Vai È un piano Dove ti puoi Giocare Il discorso Di Il discorso Di Big E Che vince il titolo Che rivince il titolo A resta il menia Nel senso Se lo vuoi fare In quest'anniera Dato che Noi abbiamo detto Più volte Non abbiamo Minimamente idea Di cosa potrebbero fare Con Big E Con Big E A resta il menia L'idea di Rollins Che vince il titolo E poi Big E Che lo rivince A resta il menia Ci può anche stare Perché l'idea Di questo tizio Era questa Owens Fa perdere il titolo A Big E Big E E Owens Iniziano una faida Che porterà Un loser Se lì W e W O Big E Batte Kevin Owens Nella faida E da lì Poi va a rivincere Il titolo contro Rollins A resta il menia Che non ha Non è un brutto Programma Contando che tanto Sai che Owens Va via Sì esatto Cioè è un modo Per appunto Far andare via Far andare via Owens Ripeto quello che Dato la settimana scorsa E' strano Che la WWE Abbia deciso Di rendere di nuovo Importante Kevin Owens Quando sta per andarsene Quando potevano Per esempio Lasciarlo Lontano dagli occhi Lontano dal cuore Lo fai comunque Giobbare E lo so Però è meglio Comunque Fargli Farlo uscire Magari facendo Anche un bel match Cioè perdendo Facendo anche un gran match Avendo una storia Importante Contando che sta Per andare La concorrenza O è meglio magari Lasciarlo nel catering E lasciarlo dimenticare Un po' da tutti Però lo fai anche Facendolo perdere Davanti a tutti Facendolo perdere Davanti a tutti Con il tuo pubblico Almeno Perché tanto sai Che è il pubblico Dell'AW No 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 Sicuramente E per il pubblico Generico Certo Per il pubblico Generico Questo sarà un perdente Quello che dico Però Quello che dico È un'altra cosa Del tipo Cioè ricordare al mondo Che Kevin Owens Esiste sostanzialmente Potevano anche Cioè Una scelta Poteva essere anche Sostanzialmente Pagarlo per stare nel catering Ogni tanto Farlo uscire Fargli fare i job E non dargli una ribalta Importante Cioè Alla fin fine Il risultato Forse È meglio Forse la seconda Per Ragionando in modo cinico Per la compagnia Perché Ridare importanza A Kevin Owens Quando di fatto Non ci hai fatto niente Per mesi Proprio quando sta Per andarsene O è un ultimo tentativo Proprio per tentare Ritenerlo Che può essere Anche se Non lo so O È una scelta Che poi alla fine Può magari anche Ritorcersi conto Cioè comunque Magari esce Facendo un match Della Madonna Anche perdendo E comunque Arriva Perde Tipo il giorno dopo Paradynamite Per dire Per fare Per fare un esempio Mentre invece Un conto è Un conto è praticamente Non farlo vedere per mesi E poi ti appare Dynamite Magari Fai Il discorso di Lontano degli occhi Lontano Lontano del cuore Alla fin fine Come si dice Comunque vabbè Non è Alla fine Non è fondamentale Non stiamo Non è che faccia La differenza Tra la vita E la morte Entendiamoci Questa Questa cosa Stavo guardando Un attimo Alcune cose Per quanto riguarda La puntata Di ieri sera È evidente Che Raw Ha Ha preso La direzione Diciamo Dei match lunghi Bisogna probabilmente Trovare un equilibrio Perché ripeto Ieri sera Ci sono stati Meno un paio di match Che personalmente Ho trovato un po' Troppo lunghi Non necessariamente Brutti Ma un po' Troppo lunghi Tipo Tipo il five way Delle donne Per esempio L'ho trovato Personalmente Troppo lungo Però La direzione È sicuramente Quella Di avere più wrestling Quanto meno Durante Durante gli show Probabilmente bisogna Trovare un equilibrio Cioè nel tempo Prima Il problema Il problema Di show Da baby È che c'era Troppo extra E poco lottato Adesso forse Se vogliamo Ci può essere Il problema opposto Cioè Tanto lottato E poco extra Un equilibrio Probabilmente È la scelta È la scelta migliore Hai tre ore Quindi comunque Effettivamente Hai tre ore Da riempire Alla fin fine Non so se la soluzione Per Diciamo per questo Possa essere anche Il segmento Del tuo indito 24 seven Che immagino Che Mattia avrà adorato Personalmente Quanti cambi di titolo Quanti cambi di titolo Ci sono stati 7-8 7-8 Mi sembra Se non ricordo Maverick Tozawa Graves Saxton Maverick Reggie Allora aspetta Erano Maverick Tozawa Corey Graves Byron Saxton Maverick E Reggie Quindi sono stati 6 6 cambi di titolo 7 campioni Ma 6 cambi di titolo Maverick Tozawa Corey Graves Byron Saxton Maverick E Reggie 6 cambi di titolo 6 cambi di titolo 6 cambi di titolo In pochi minuti Praticamente 3-4 minuti Anzi anche meno Di 3-4 minuti Probabilmente Vabbè Modo di riempire il tempo Probabilmente La cosa Sai qual è la cosa Che fa sorridere Alla fine Che va bene Una cosa di Poco Di poco conto Che alla fine Se guardi L'Albodoro Praticamente Le titolo 24 seven Ieri sera Hanno interrotto Il regno titolato Di Reggie Che era di Granunga Quello più lungo Della storia della cintura Perché andava Durava praticamente Durava da tipo Più di 100 giorni Esatto Più di 100 giorni E poi alla fine L'hanno Praticamente Come posso dire L'hanno L'hanno fatto ripartire Alla fine Perché E' una roba Che facevano spesso Va detto Sticami di titolo Numerosi quali Capitavano molto spesso Durante gli out show Quando c'era il titolo Il titolo 24 seven Erano gli unici cambi di titolo Che facevano Durante gli out show Cioè cominciavi Cominciavi l'out show Con un campione Poi c'erano 2, 3, 4 Cambi di titolo E poi alla fine Il titolo tornava sempre Al campione Al campione originale 112 è durato Per essere Per essere precisi Il regno titolato Di Reggie Siamo al secondo giorno Praticamente Del suo regno Del suo regno Del suo regno Titolato Vabbè Un dato ormai Michael Credo che Nei suoi propositi Di fine anno O nella sua letterina Di babbo natale Cos'è che mi ha chiesto Il ritiro dei titoli Di coppia E titolo 24 seven Mi sembra Sì Potrebbe ottenerlo Potrebbe ottenerlo Però Non credo che Non credo che Cioè potrebbe ottenerlo Può chiederlo Può chiederlo Però Però mi sa che non lotterà Quello Quello È il mio No anche perché A USA piace tantissimo Questa cosa Questa È un'idea loro Pare È un'idea loro Quindi Boh Non so Non so Non so cosa c'è Non so cosa aggiungere Praticamente Su questa Su questa situazione Non è ripeto Non è Alla fine non è importante Tutto Niente di Niente di clamoroso Però Vabbè Diciamo che Ci sono tre ore C'è spazio anche per quello Fosse Fosse a Smackdown Diciamo Se il titolo di forse Fosse a Smackdown Avrebbe probabilmente Molto Molto Meno spazio Secondo voi Ci chiedono Su Youtube Secondo voi A questo punto Kevin Owens se ne va A me per ora non sembra Secondo me se ne va Cioè Diciamo L'angle La situazione Mi sembra La classica situazione Di una persona Di una persona Di un Di un wrestler Che Fa dei job E poi se ne va Quindi Proprio Classico Classica situazione Da fine Fine presenza In un territorio Diciamo Se vogliamo Utilizzare un termine Poi vediamo Tutto può accadere Tutto può accadere Magari rinnova Però Cioè Più che altro Il WWE Non ha molto da fare Il discorso Il discorso Il discorso Va a fare Va a fare Il capo Dell'Elite 2.0 Sì Del Mount Rushmore Diciamo Se vogliono Recuperare La stable Della PWG Potenzialmente Poi magari Hanno anche Un'altra Hanno anche Un'altra idea Vediamo cosa Vediamo cosa fanno Però effettivamente La cosa più logica Potrebbe essere Effettivamente Tagliare fuori Kenny Omega Dall'Elite Owens Adam Cole Prendono il controllo Owens Steen Prende il controllo Della stable Insieme ad Adam Cole E i Bucks E da lì Poi praticamente Si riparte Con questa stable Dominante All'interno All'interno Dello show Vediamo cosa fanno Vediamo cosa fanno Poi Se effettivamente Owens andrà Più che altro Il discorso è Ok Lui magari decide Anche di rimanere In WWE Però Hai anche Cioè poi Più che altro Lui Hai anche L'esempio Per esempio Parlando di Di rinnovi Abbastanza Abbastanza Recenti Se vogliamo Di Cesaro Cesaro ha rinnovato Cos'era Quest'anno Non ha rinnovato Con la WWE Ha fatto La mini Ha fatto la mini Faida con Roman Reigns L'ha persa E poi Guardate Cesaro Che fine ha fatto Gli è andato Ok è rinnovato Ti diamo il contentino Ti diamo Ti diamo una presenza Nel main event A Smackdown Per uno o due mesi E poi Ritorni a fare Quello che facevi prima Se non peggio addirittura Perché l'ultima puntata Di Smackdown Era A cazzissimo In tag team Con Mansour E ha perso E è stato anche schienato Quindi Evidentemente Non hanno piani Per lui In tempi In tempi brevi Ma come lui Ci sono anche altri esempi Poi Il discorso di licenziati E anche Comunque Un pochettino Probabilmente Gli 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 Ritorna in testa Poi A livello Di possibili avversari Vediamo Anche Chi C'è Di match Interessanti Con Diciamo Con Owens In WWE Come puramente Diceva Mattia In precedenza Negli rimangono moltissimi Tutto quello che poteva fare Effettivamente L'ha fatto In questa In questa In questa Comedia L'ha fatto anche bene Quanto meno In AEW Qualche match nuovo Effettivamente Ce l'avrebbe Anche match Inediti A livello A livello Di rivalità Poi vediamo Naturalmente Poi Se gli offrono Magari Gli fanno un contratto Monster Lui magari accetta Rimane Poi Finchè Finchè Non c'è Finchè Non c'è La penna Su carta Finchè Non si asciuga L'inchiostro Di firme Varie Da una parte All'altra Non possiamo Non possiamo Sapere niente Vale per tutti Non solo per Per Owens Vale anche per Gargano Vale anche per Per chiunque altro Praticamente In questo In questo mondo Che Con Con due compagnie In competizione Due compagnie grandi Quanto meno Quanto meno in competizione No Alla fin fine È business Non è Niente di più Niente Niente di più Niente di più Niente di più Dario Giacca I Becky The Day Sono l'abbonamento Di Youtube O di Patreon Tutte e due Tutte e due Sono Indifferenti È indifferente Puoi decidere Dove vuoi Puoi andare Sia su Patreon La differenza È che quello di Quello di Youtube Ti calcola Il mese di abbonamento Dal giorno in cui Lo fai Esatto Il Patreon Te lo calcola Dal primo Automaticamente il primo Cioè Se ti abboni adesso Paghi Patreon Paghi oggi Che è il 9 E poi paghi l'1 Praticamente Mentre il mese Su Youtube Se ti abboni oggi Il tuo abbonamento vale fino al 9 Di dicembre Praticamente Si rinnova poi il 9 Il 9 di dicembre È un sistema di fatturazione diverso Per quanto riguarda Youtube e Patreon Sono Per farvi capire Patron ha lo stesso sistema di fatturazione Di New Japan World Di NJPW World Per chi lo utilizza Cioè NJPW World Se uno si vuole abbonare Al sito Del New Japan Per vedere Gli eventi in streaming L'abbonamento Si paga sempre Obbligatoriamente Il primo del mese Sia che tu ti abboni Il primo del mese Prima Sia che ti abboni Il 30 Se tu abboni il 30 Paghi il 30 Paghi l'1 Se invece ti paghi l'1 Ti godi praticamente Tutto il mese E poi Cioè tu paghi per il mese Non per il mese effettivo Ma per il mese solare Praticamente Alla fin fine Se tu abboni Tipo oggi Oggi il 9 novembre Il tuo abbonamento Vale fino al 30 novembre Praticamente Poi il primo dicembre Si paga Il mese Il mese successivo Questo per quanto riguarda NJPW World E questo per quanto riguarda Patreon Per quanto riguarda invece Youtube I contenuti Sono gli stessi Praticamente Anzi Praticamente Sono gli stessi E L'unica differenza È che come detto L'abbonamento parte Il 9 novembre E vale Fino al 9 Al 9 dicembre In questo caso O comunque vale un mese Dalla data Praticamente Di Di abbonamento Alla fin fine Tanto parliamo di abbonamenti Ringraziamo Thomas CI Spero di averlo letto bene Che ha fatto l'abbonamento Al nostro canale Con Prime Grazie mille Grazie 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 mille E Giustamente Dico in chat Graves Si diciamo Si intrattiene A letto Diciamo con Carmela Che gli frega Del titolo Ne parlavi tu oggi Di questo Guarda che Esatto Graves oggi ha detto Che quando ha vinto il titolo È stato il momento Più bello della sua vita Quindi evidentemente È un po' come Zack Ryder Stessa cosa Che fu detto Ai tempi di Dave Meltzer Zack Ryder Scusate Non esiste più Potete cancellarlo No ma Quando era campione Intercontinentale Ve l'ha detto Che era Il momento più bello Che si fa chiamare Always ready Dal 4 di novembre Non esistono più lui E tutti i suoi compagni Perché Ci ha pensato Minoru Ah ok Vabbè Dai C'è integrale Tutto il match Io credo di essere Al 14esimo rewatch Perché ho goduto Due anni Che non godevo Un match così Povero Josh Alexander Ma viva la morte Di quegli altri due Soprattutto Matt Soffigo Cardona Cardona ripeto Io non posso Parlare male Di uno Che si mette in gioco Andando in GCW Facendo le cose Che ha fatto Cardona In questo In questo 2021 Sì ma è contro Il team della morte Quindi Non c'è niente da fare Suo stint in GCW Suo stint in GCW È una delle cose più divertenti Del 2021 Lui che Cioè lui che Ha più divertente Dei cambi di titolo Di ieri sera Decisamente Decisamente sì Ma io ho riso tantissimo Credo lo direbbe Credo lo direbbe Anche Mattia E non guarda la GCW Quindi Non so se Non so se è d'accordo No non me ne frega È un bravo Di quello che fa Cardona No ho capito Però ti dico Più divertente Del titolo di tutti Forse Probabilmente lo è Agra Perché non ci vuole molto Alla fine Tutto sommato Sticassi Figure Appunto Tornando Intanto avete Riconosciuto Gianluca Rouge Che credo Stia Rapinata Uno stint Molto breve Sono come Kevin Owens Io non ho mai tradito Nessuno Dai rumori Stai rapinando Un'officina Giudicando Dai rumori Sono come Kevin Owens Sono una persona Che non ha mai avuto Problemi O cose brutte Vero Vero Big E Io sono una persona buona Voglio un amico Voglio un amico in te E poi ti faccio una power Cos'è Hai un amico in me Cos'è Toy Story È diventato All'improvviso Hai un certo punto Hai un amico in me Che cazzo è A un certo punto Sì A un certo punto Siamo arrivati a Big E Che Vabbè senti Io ho un match Rompimi il cazzo Levati dal cazzo Esatto Va bene Poi 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 Ecco giustamente Ti salutano Come il capo Del fan club Di Bobby Lesch Che è tornato Ieri sera In quel In quel dirò E volevo chiedere Un commento Diciamo Allora Sentite Se deve essere Dominic Mi stia a prendere il posto Siamo tutti d'accordo Grazie Almeno uno che sa lottare Un pochettino Con più Imponenza Sì Poi Ma poi Leschley Che vi devo dire Ormai Leschley passato E' imponente Non impotenza Ah è anche Eh guarda Che da quando ha perso il titolo Eh Quindi non gli tira più C'è Mus Non gli tira più Cioè tu ormai Ormai sei saltato Cioè Lo eri già prima Ma hai abbandonato Il treno Il treno Leschley Per salire definitivamente Per salire definitivamente Sul treno di Mus Cioè siamo No io lo ripeto E allora A parte che quella È la stable più bella di sempre Ma non la faranno mai più Perché Suzuki è andato via Però Io Ho già pronta la maglietta Morris e Mus Che è la più bella di sempre Con sotto Già la tagline Ci stiamo sul cazzo Però abbassiamo Gen Sì Che è la più bella Tagline di un tag team Ci stiamo sulle palle Voglio il tuo titolo Però si Meniamo qualche Face di merda Stato sto Stato sto cos'è Giovedì a Impa C'è il Il triple threat No per il titolo Non per il titolo Per il Non per il contender Giusto Non per il contender Sì 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 Ma non è solo perché Lashley ovviamente È stato fatto tutto Perché Vabbè c'è la storyline C'è la roba di Pierce Che dice Ray Sto qua un coglione Io ci metto Lashley Vediamo se lo batte Buona fortuna Ovvio che vinceva Lashley Hanno annunciato Potenzialmente un gran bel match Per NXT 2.0 Vedo Di questa C'è il vagone? No Neandertal al momento Non è annunciato Per la Che Kaley Ray Kaley Ray Contro Saray Che credo che sia L'ennesima conferma Che non hanno piani Per Saray Poveraccia L'hanno fatta venire Poi hanno cambiato Hanno cambiato Lo show E hanno completamente Gettato la spugna Con lei Ed è veramente Un peccato Vabbè ma adesso Vedrai che ne trovano Qualcosa da fare Mi fido Comunque ti ricordo Che aveva la Fida con la Toxic Attraction Aveva comunque Una mezza Fida con la Toxic Attraction Quindi magari Recuperano anche Lo spero per lei Però contando Se ti ricordi Contando come aveva Debuttato Contando come L'avevano Come l'avevano Pompata all'inizio Effettivamente E mi sembra Abbastanza evidente Che comunque C'è anche La priorità Nei suoi confronti È molto cambiata La parte della Della compagnia C'è anche da dire Che la campionessa In quel periodo Era Raquel Che era Vibi Face Quindi Sì no Sicuramente Sicuramente No sicuro Sicuro Però Però dico All'inizio Le hanno dato la striscia La striscia vincente Poi gliel'hanno interrotta E adesso L'hanno Purtroppo Anche perché Si vede molto raramente Negli show Negli show Negli show Negli show Di NXT Perché era infortunata In storyline L'hanno infortunata Di Toxic Attraction Ok ok Perfetto Però Stiamo parlando Da stessa persona Di Sarrei Che era infortunata Certo Mi ricordo minimamente Era infortunata In storyline Non mi ricordavo Minimamente Vabbè No vediamo Vediamo se Avevo picchiato Le Toxic Attraction Dopo che Le aveva fatto Il match con Mandy L'ultimo match Di Mandy Bionda Si Con lei che fece Il drop kick A Mandy Mandy che disse Mi ha rotto il naso Mi ha rotto il naso Ah giusto Era giusto Era giusto La formazione La formazione Sì La formazione Del trio Non era Non era Ancora Era già NXT 2.0 O era Ancora Era ancora Una delle ultime puntate Esatto Infatti Mi sembrava strano NXT 2.0 Non si è ancora Praticamente vista Adesso Non mi ricordo L'ultimo match Ancora ha venduto L'attacco Non della formazione Delle Toxic Ma il momento In cui hanno Ufficializzato E queste tre Stanno insieme Poi è passata Dark Mandy Comunque lei L'ultima volta Si è vista 205 Live Addirittura Il 26 Ma 205 Live È un universo Cotto Catrina Cortez Ha perso Con Indy Arthur E perciapirotta Contro Nel match Eh no Aveva lottato NXT 2.0 Aveva lottato Due volte Ha fatto un Sixman tag Che ha perso Con Le Toxic Attraction Che hanno battuto Casey Catanzaro Che Dan Carter E lei Poi ha battuto A Mari Miller A A 205 Live La settimana Dopo A NXT Hanno fatto A Mari Miller E Sarai Contro In Indy Arthur E perciapirotta E l'ha perso Quel match E poi ha fatto Sarai E ha battuto Catrina Cortez Il 26 ottobre A tuo 5 Live Cioè È evidente Che non hanno piani Per lei Purtroppo E mi spiace molto Perché comunque Era arrivata In pompa magna Cioè Comunque aveva Aveva fatto Il debutto Con Con Zoy Stark Aveva Andato la striscia La striscia Di vittoria Aveva battuto Gingolin Poi aveva perso Da Kotakai Che era Perché dovevano pompare Da Kotakai Prima del match Con Con Rackal Gonzalez Mi sembra Perché era poco prima Di Summer Come periodo E Però L'hanno fatto perdere Sarai Era un match Che era anche cambiato Perché c'era C'era stato un infortunio Mi sembra Sì Doveva essere Da Kotakai Contro Ember Moon Esatto Bravo Ember Moon Non c'era Ember Moon Non c'era Sì esatto E quindi Ember Moon Era infortunata E quindi Misero San Rey La fecero perdere Che è una cosa Che le interruppero La striscia La striscia Di vittorie E da lì Poi il resto Purtroppo Purtroppo Per lei Mi spiace Perché lei è molto brava Quindi Di ripeto È un'ulteriore testimonianza Del Del cambio di priorità Per quanto riguarda NXT Con Il cambio di Con il cambio di brand Tutto qui Tornando a Raw di ieri sera Ecco Lashley Che è tornato Basta Ha vinto È nel team Tanto non ce ne frega niente Di questi match Buonanotte Con Pierce Con Pierce Che dice a Dominic Mysterio Fai schifo al cazzo E non devi stare nel team No 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 Precisa meglio Ha detto a Rey Rey Con tutto rispetto Cioè nel team di Raw Tuo figlio Tuo figlio Una chiavica Tuo figlio una chiavica Però Guarda Però gli do un match Per provarlo Muori Lashley E vado Finito il match Vado ad entrare i leoni Se resisti E però c'era il grido del leone Se resisti Se resisti Praticamente Delle nostre Esatto Ti mandiamo contro i leoni Se resisti Sei un gladiatore Fai parte del team Se muori Pazienza Non siamo a livello Non siamo a livello Del famoso Oddio il team di Sbag Da una merda Cambiamoli tutti Però è evidente Che ci vogliono Continuare a costruire Dicono vabbè Tanto è un match Che non conta niente Mettiamo lo star power Perché c'è Nerviamo un Mysterio E ci mettiamo Lashley Tanto Mysterio Junior Sarà presente Nel match Figura Hanno anche Annunciato Joe Gessi Contro Boat La puntata di Questa sera Di NXT Oh un'altra vittima Per Joe Gessi Ottimo E poi I Jacket Time Ovvero Kushida E Ikemenjiro Contro i Creed Brothers Ah beh Poi c'è anche Six Man Six Woman Delle donne Con le Toxic Attraction Contro Yoshirai Che è Seca Tanzaro Che è Dan Carter Quindi vediamo Cosa succede Praticamente anche lì Abbiamo quattro match Annunciati per la puntata Per la puntata Di NXT Di questa notte Magari qualcuno Sarà anche annunciato Prima della fine Prima della fine La puntata Tornando a Tornando a noi Tornando a noi Tornando a noi Tornando a Rodi Vabbè Tanto lo guarda In poco tempo Che posso darvi Vi dico Hanno già fatto Le sfide per Big E Fino praticamente Anno nuovo Anche di più Esatto Anche di più probabilmente Pensandoci Perché abbiamo Adesso ci sarà Roman Reigns A Survivor Series Poi ci sarà Rollins Che ha la title shot E Kevin Owens Bisogna dire Chi prima Chi dopo Quando scade Owens Ah boh Non lo so Non lo so Dicevano Più o meno Tre mesi Esatto Arriva la Rumble Dai Arriva la Rumble Perde e va via Eh se riesci a prolungare Fino alla Rumble Magari Magari si Fai tipo Una roba del primo Lo show del primo Magari fai L'ultima di Rollins E poi metti Fai il match finale Di Owens Eh parlando di NXT Tu poi no Tornando per un attimo Al discorso Joy Starks si è operata Per Rottura del crociato E Strappo al menisco Quindi ne ha Per un bel po' Mi sa Poverina Ne ha per Ne ha per un Diversi mesi Almeno Per almeno Sette Oto Nove mesi Pensandoci Magari un pochettino meno Però Per le tempistiche Bene o male Il crociato Sono bene o male Quelle Tanto parlando di infortuni Tornerei per un attimo Al discorso Che abbiamo fatto domenica Perché abbiamo avuto Il giorno dopo Novità Perché Per sbaglio Ho detto Una cosa Che alla fine Si è rivelata corretta Ovvero Tetsuya Naito Perché Tetsuya Naito È tornato Cioè Farala Alla World Tag League E ha spiegato Che praticamente Lui Temeva E temevano Praticamente Temevano che Che l'infortunio Al ginocchio suo Fosse Diciamo che si fosse Fatto il crociato E quello di questo tipo Invece hanno fatto gli esami Non ha Ha avuto un problema lieve Ed è in grado Praticamente Adesso di tornare Su ring Farà la World Tag League Di quest'anno Che inizia Credo questa settimana Credo che cominci Già Sabato O qualcosa Del genere Vado un attimo a vedere L'elenco 14 novembre Quindi domenica La prima giornata Della World Tag League I team della World Tag League Sono Tanayashi Tanayashi E Toruiano Ok Togimakabe E Homma Tenzana E Kojima Ovviamente Yuji Nagata E Tiger Mask Goto E Yoshi Ashi Naito E Sanada Ovviamente Taichi E Zexabro Junior Suzuki Minoru Suzuki E Takami Shinoku Che ritorna in New Japan Per questo Per questo torneo Greito Kan E Toa Enare Tama Tong E Tangaloa Evil E Yujiro Takashi E Badluck Falè E Aiuto Mi viene E Chase Owens Non mi veniva il nome Non mi veniva il nome Di battesimo Sono 1,2,3,4,5,6,7,8 12 team Per 11 match Praticamente Nel girone L'ultima giornata È in programma Il Il 12 dicembre Credo che Credo che sia E poi E poi I vincitori Poi otterranno Una title shot Al Tokyo Dome Lo stesso vale Credo per Il Best of Super Junior Che comincia Che comincia anche questo Questo weekend Comincia il 13 Per essere precisi Credo che al termine Gli show C'è un giorno Il Best of Super Junior E il giorno dopo La World League Con Ryusuke Taguchi Master Wat Robby Eagles Io Iromo Takashi Bushi Il Desperado Yoshinobu Kanemaru Duki Taiji Shimori Il Fantasmo E il show E il vincitore Penso che andrà a Tokyo Dome Per il titolo Junior Heavyweight Contro il campione Credo che sia Robby Eagles Che ha vinto il titolo No che scusa Sì Robby Eagles Che ha vinto Il titolo L'ultimo L'ultimo show Vado un attimo A vedere Chi è l'attuale L'attuale campione Praticamente Junior Heavyweight Della New Japan Desperado Desperado Sì scusami Il contrario Il Desperado Che ha battuto Il Desperado Che ha battuto Robby Eagles Se ricordo bene Fatemi controllare Un attimo L'albo d'oro Sì infatti Robby Eagles È il Desperado Battuto Robby Eagles A Power Struggle Il Desperado È nel torneo Però ovviamente Non dovrebbe vincerlo Perché comunque Bene o male Va sempre a finire così Per questi Per questi tornei Tornando a noi Piccola notizia triste È morta Purtroppo Judy Bagwell La mamma di Buff Bagwell Che ricordiamo Tutti Su Montacarichi Insegna agli angeli Come stare sul Montacarichi Esatto No vabbè A parte gli scherzi Scherziamo Le battute Le battute Spiace Ovviamente Non era neanche Tanto anziana Purtroppo Perché 78 anni Non era Non era Tra l'altro Una cosa C'è una curiosità carina Appare che Che non Ad Halloween Evoke Sì Dovesse essere Rick Steiner Era prevista Era prevista La presenza di Rick Steiner E alla fine È saltata È normalmente È completamente singolare Il fatto che comunque Stiano cercando Abbastanza apertamente Di ignorare Rick Steiner E poi hanno chiesto Il padre di venire Ad Halloween Evoke Non so C'è una cosa È una cosa Abbastanza Abbastanza strana Tra l'altro Piccola curiosità Per quanto riguarda Per quanto riguarda Judy Bagwell Judy Bagwell È stata campionessa Di coppia WCW Nel Ti dico Anche quando Nel 1900 Nel 1900 Praticamente Nel dicembre Che lo scuso Nel 1998 Quindi è una cosa Di cui non possiamo Dare la colpa A Vince Russo Perché Vince Russo È arrivato L'anno dopo Praticamente In WCW Praticamente Lui era in faida Era in faida Con Buff Bagwell Per i titoli Per i titoli Di coppia Praticamente Cioè Tra di loro In più Erano in faida Per i titoli di coppia Il suo Tactic Partner Praticamente Si era infortunato Ed era Kenny Chaos E praticamente La sua soluzione È Guarda Sono Praticamente Scelgo un partner Che io sono sicuro Che tu non potrai Picchiare Tua madre Quindi Quindi praticamente Judy Bagwell È stata Campionessa Alla campionessa Per Di coppia Praticamente Da WCW Per Per un certo periodo Perché Vince il titolo A dicembre E poi a gennaio Lo resero vacante E poi lo rivinse Lo vinsero Barry Windham E Kurt Henning Nel febbraio Del 99 Credo Data la tempistica Quando Barry Quando Windham E Kurt Henning Facevano parte Dei West Texas Rednecks Parlando di Grandi stable Grandi stable Della storia Della Della WCW Battermi in finale Chris Benoit Di Malenco Immagino che C'è stato anche Un match carino Contando i quattro Perché comunque Sono quattro ottimi Lottatori Tornando a Raw Praticamente Di Di Ieri sera Bianetto di Kevin Owens Bianetto di Di Seth Rollins I cui abiti Sono Sempre più ridicoli E Va detto Hai visto come era Conciata la moglie? Ah Allora La moglie La moglie Quanto meno Ha messo in mostra La mercanzia Quindi Diciamo che non posso Da Da maschio Non posso Non posso essere Scontento Diciamo Però il vestiario È brutto uguale Rivedibile Diciamo Il top Fatto con Con la palla Di disco inferno Però per il resto Anche l'acconciatura Non era Delle Era Vabbè L'acconciatura Non è la prima volta Che utilizza Quella Cose simili Da parte Da parte Di Becky Diciamo Nella sua permanenza Ora lo sta alzando Ogni settimana Ogni settimana Allunga la curva Proprio Lo fa ancora più grande Sì Diciamo che ha Abbracciato il suo Diciamo il suo lato Douchbag Se vogliamo Utilizzare questa 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 definizione Il lato Conor McGregor Sì Possiamo Possiamo Tranquillamente Possiamo tranquillamente Va detto Va detto Che se lo può Ampiamente permettere Come potete vedere Da questa Diciamo Da questa Da questa Ficchi non da un pugno A Chance the Rapper Tipo Roba del genere Ce la può fare No Assolutamente Assolutamente Diciamo Comunque Va detto una cosa Cioè Contando che ha figliato Che ha figliato Meno di un anno fa Lei è un'ispirazione Essere in uno stato In uno stato fisico Di questo Di questo livello Che abbia il fisico Che ha È in dubbio Assolutamente Parlavo Assolutamente No La cosa Cioè l'acconciatura Guarda Anestamente Ho visto Acconciature Molto peggiori Da parte Da parte sua Sì Però sia lei Che il marito Si vestono di merda E fanno Sì Diciamo che Lo fanno apposta Perché comunque Cioè Certo E parte loro In questa maniera Per vestirsi Come cretini Ci sta Alla fine Ci sta Nel Ci sta Si stanno Si stanno divertendo Un mondo Cioè Comunque Questo è Ma Figurati Questo Questo è Questo è evidente Rimango abbastanza Abbastanza scettico Sul Cioè abbastanza Perplesso Sull'idea Di Di turnare Becky Lynch Non sono Non sono convinto Che stia funzionando Nel migliore dei modi Francamente Un pubblico Il pubblico lo vedo Più che altro Lo sento nel caso Non tanto nel caso di Rollins Ma nel caso Perché comunque Con Rollins sono già più abituati Nel caso di Nel caso di Becky Lo vedo ancora abbastanza confuso Dipende sempre Chi gli metti contro Perché comunque E anche dove sei E anche dove sei Va detto E anche dove sei A fare No ma anche si Oltre dove sei Però se gli metti I nuovi La nuova linfa E Purtroppo Carismaticamente Becky 5 6 Altro che Addominali 6 pack Of carisma In più Può fare lì Quanto vuole Però È Sempre Becky Il discorso È sempre quello Quel famoso Concetto A Summerslam Ma qualcosa Poi faranno con Bianca Tranquilli Hanno fatto poi tutto Per avere questa Becky Il un po' Strafottente La McGregor E mo' Vediamo L'effetto Della Il Con le giovani Face Con Bianca Insomma Vediamo con Liv Morgan È il test Della vita Di Morgan Però Bianca ha funzionato Abbastanza funzionato Bianca Sì Gli ha riuscita a fischiarla Sì E' riuscita a andare Over da baby face Contro Becky Ecco Parlando di abiti Io parlerei più Dell'abito di Rollins Penso francamente Un misto tra Un misto tra Super Pippo E il commissario Zuzurro Come potete vedere Da queste Da queste immagini Guarda Finché non fa Harry Tu non sarai mai Un poliziotto Sono a posto Quando diventerà L'ispettore Derek Quando porterà quel colore Sì Mamma mia Harry Non farai mai carriere No ma sai qual è la cosa Cioè la cosa La cosa strana Non è tanto Non è tanto loro Che si Lui soprattutto Lei già meno Ma lui Lui decisamente di più Non è tanto lui Che si veste in quel modo Ma dove cazzo li trova Cioè dove li trova Sti abiti Cioè è quello È quello che mi chiedo Cioè più che altro Cioè dove Cioè dove si trovano Queste robe Queste robe agghiaccianti Che lui indossa Le fanno apposta Dai No chiaro No capito Ma gli costa anche L'ira di Dio Fatti di fare apposta Probabilmente Cioè Secondo me ci sono Gli fanno ad hoc Vai Ormai fa parte Della sua gimmick Gli fanno ad hoc Nel backstage Dici Secondo me Secondo me Li vendono anche È tutto riciclato Non è tutta roba figa Tutta roba che magari Riciclano Secondo me Secondo me Secondo me Le trova Secondo me Le trova online Cioè si mette Ok Qual è l'abito L'abito più L'abito più da stronzo Che posso indossare oggi Vediamo un po' Andiamo su Come si chiama Su Andiamo su La versione La versione americana Di Zalando Per esempio Trovare Abitidastronze.com Esatto Abitidastronze Douchbagatires.com Douchbagatires.com Esatto Detto questo È la sua Sì È forse Una delle sue migliori Interpretazioni Da eoni Cioè si diverte Sì È evidente che si sta divertendo Cioè comunque Che si sta divertendo un mondo Fare A vestirsi in questo modo Ha accentuato tutti i suoi aspetti Quindi Quindi Waluigi Waluigi Rollins Come ormai Funziona Dai L'hanno portato per quello Almeno è un Come Becky È uno qua Che porta carisma Aiuta i giovani Vediamo Oddio Nel caso di Rollins È solo perché deve fare Il stronzo strafottente Con Becky Ripeto Questa scelta che hanno fatto La facciamo diventare Il perché Aiuterà le giovani Con Bianca A livello di creazione Ha funzionato Vediamo Ma l'ha chiesto lei Sì L'ha chiesto lei Di diventare il perché Si è rotta il cazzo Di fare la babyface Già nel suo stint Già nello stint Pre 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 parto Pare che lei Avesse chiesto Insistentemente Di girare il perché Si era rotta il cazzo Di fare la babyface Eh Negli ultimi mesi Si vedeva anche nell'ultimo periodo Che voleva fare la babyface Voleva fare l'heel Perché Nell'ultimo periodo Pre Pre Giro Pre Pre Prerimanere incinta A un certo punto Quando veramente Era diventata Becky McGregor Sì Anche perché Comunque Oggettivamente Fare l'heel È divertente Cioè E va detto Anche non è Diciamo Non è difficile Nel senso che comunque È molto È molto più facile È molto più facile Farsi odiare Che non farsi Che non farsi Che non farsi apprezzare Diciamo che nel Nel caso È un po' la situazione Di Austin Cioè comunque Di Austin Quando fece il torno Nel 2001 Cioè comunque Sono quegli atleti Che però sono Dalla Rovescia della medaglia Che sono Talmente over Che In questo caso Devi proprio impegnarti tanto Per farti fischiare E va detto che fino Fino a questo momento Effettivamente C'è ancora una fetta di pubblico Che è abbastanza attituante Nel Nel fischiare Nel fischiare Becky Lynch Devrà impegnarsi ancora Proverà il modo comunque Di tirare avanti Dai Ripeto Già il fatto che Ha portato Bianca Comunque a essere Una babyface band Sostenuta Parte del suo Iniziale lavoro L'ha fatto Ora con Liv Morgan Più che il wrestling Proprio Il character Cioè Liv Morgan Che va contro questa Becky C'è bisogno Un po' da tutte e due Di venirsi incontro Perché Becky Più di così Sì Liv deve Liv Sul piano dell'ottato Mi spaventa meno Questo match Onestamente Rispetto a quanto Magari Possono pensare altri Mi spaventano Molto di più i promo Nel senso che comunque C'è un bel gap Tra le due Va detto che Liv Morgan ha avuto Anche poco Possibilità di parlare Nella sua carriera In WWE Quindi sarà molto interessante Vedere come la giocano Sul parlato Sul piano dell'ottato Sul piano dell'ottato È un'opportunità Cioè vediamo cosa fa Quanto meno Finalmente le danno Un'opportunità Se poi affonda Se poi fallisce Ok Ci han provato Quanto meno È quello che Beno male molti chiedevano Se fai promo Come facevi promo A The Pop Down Down Mamma mia Beh urlando E ruttando Sarebbe un miglioramento Va detto Rispetto A molti A molti Dei promo Che vediamo Troverebbero La fetta di pubblico Che la meretta Comunque interessante La situazione Anche per quello Sì allora È uscito oggi Su Fightful Su Fightful Select È uscito Che praticamente C'è una sorta Di Di ammutinamento Praticamente All'interno Di A Pop Down Down Praticamente Se avete notato Anche sul canale YouTube I contenuti Si sono molto Arrestati O Molto Arrestati O sono praticamente Arrestati Praticamente I contenuti Di Di A Pop Down Down Perché Praticamente Stando a Fightful Select I Creatori Di contenuti Per il canale Non Creano contenuti Perché sostanzialmente Ritengono Che L'accordo Che è stato Siglato Dalla WWE Con Xavier Roots Che ricordiamo Ha venduto il canale Alla WWE È un canale Di proprietà Della WWE L'accordo Fatto Dalla WWE Con Xavier Roots Non sarebbe Molto equo A livello Probabilmente economico Per quanto riguarda Per quanto riguarda Loro Quindi In segno Di solidarietà Praticamente Hanno di fatto Bloccato il canale Alla fin fine Comunque Hanno Molto 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 Rallentato L'uscita Di contenuti Adesso ti dico Vai Se tu vai a vedere L'ultimo video Di Up Up Down Down Che hanno appato Sì È un po' Che non ne appano In realtà Eh infatti Vedi Perché adesso Stanno sui Tre settimane e mezzo Fatte Allora L'ultimo L'ultimo praticamente È un corto Di sei giorni fa Con Happy Corbin Con i suoi cinque Ma quelli Sono quelli Fatti da loro Da WWE L'ultimo L'ultimo video È Tech Nite Con Samoa Joji Muse Con Happy Kingston Ed è di tre settimane fa Effettivamente Diciamo Il contenuto di Xavier È stato la rib challenge Con ovviamente Mansur Top of the top Però è un contenuto Di un mese Più fa Poi va detto Che non fanno roba nuova Poi va detto Che gli stanno gambizzando Il canale Perché ogni mese Licenziano gente Che tra le varie cose Trasmette anche O comunque fa parte Fa parte del canale C'è andate a vedere Il roster Praticamente C'è la foto Del canale Di Up Up Down Down Praticamente Allora ci sono Gargano Aspetta che In grande L'hanno aggiornata Guarda che non ci sono Già più i licenziati No ma infatti Infatti però ci sono The Miz Sto cercando di capire Chi cazzo c'è Bayley Kofi Kingston AJ Styles Big E Sasha Banks Seth Rollins Shayna Bessler Cesaro Jimmy Ej Uso Credo che sia Liv Morgan Questa Liv Morgan Tegan Nox Sì Candice Sì E infatti Comunque sono Sono Cioè per dire The Miz Quanto tempo è Che non appare nel canale Adesso non ho messo lì Però È tanto che non appare The Miz Ma c'è tanta gente Che non appare più Che appare poco Cioè tutti i punti Cioè tutti i punti Di forza Praticamente Del canale Vabbè Tra Tipo vabbè Alan Cole se n'è andato Ok va bene Un altro discorso Lo stesso Tyler Breeze Non c'è per esempio Se guardi Nel diciamo No 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 Ti spiego Adesso adesso Metto l'immagine In diffusione Perché io stavo Stavo guardando Adesso vedo se riesco A mettere la freccia Praticamente Ecco no Purtroppo no Però Stavo guardando le immagini Piccole praticamente Non guardavo le immagini Più grandi Che erano Che erano sopra Errore diciamo Di troppa Troppa attenzione Al dettaglio Praticamente In questo In questo caso E meno Qui ci cadi Perché non Non segui il dettaglio Cioè Si vede che ancora Tu Lo capisco Sei sconvolto Dal dettaglio principale Della puntata di Raw No Comunque Tornando Doudrop Why Eh ne parlavamo prima Di Doudrop Mi abbiamo parlato prima Io sono ancora Perché mi chiedo Why Secondo me Ha anche senso Il suo tour No Ha senso Allora Nella puntata Si Nell'ottica Sì Nell'ottica Della storyline Della puntata Cioè Della storyline Con Bianca Belair Si Ha senso Non ha senso Se pensi Che questa L'ambullizzata Per mesi E appena finisce La faida Da Girill Cioè Quello si È quello È quello È quello Il distacco Da vincitrice Della faida Ti venga a dire Uè però io no È quello Psicologicamente Il distacco Cioè comunque Cazzo Questa me ne hai fatta passare Per una vittima Bullizzata Per mesi Da Da Iva Marie Va via Iva Marie Sparisce Doudrop Da sua ribalta Va in finale Va in finale Torniamo con una Hill La prima cosa che fa Diventa Hill Cioè 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 Poi nella puntata È stata Sto storytelling Abbattata di fatto Diciamo Vai Vai Nella puntata in sé Giustamente Il promo era per Fatti dire Guarda Ha perso Gira un po' le palle Torni il Giusto Perché comunque Te l'hanno spiegato Con Bianca Però fino a due settimane fa Lottava in un torneo Contro Quinzelina Cioè E gli è scattata adesso La voglia di Meno Bianca Perché così Poi è spiegata bene Ma Gianluca L'hai vista La puntata Sì L'hai spiegata bene Lo so Che nella puntata Lo capisci Perché Sei incazzata Perché è stata lasciata fuori Dalla lotta titolata Per mettere Con Bianca Belacca Diceva Io merito un'altra shot titolata Cioè Ho capito Ma se tu passi i mesi A costruire una Come una che viene bullizzata Non ha senso che poi La giri ill immediatamente Cioè c'è qualcosa Che non quadra Subito Cioè subito Se aspetti sei mesi Ok ma Due settimane fa È il distacco Dalla storia che hai raccontato prima Il fatto che lei diventa subito ill Cioè È quello che Poi è chiaro che ha senso Il fatto che lei sia incazzata Per Per la title shot Che viene data Alle altre cinque E in particolare Bianca Belè Nessuno dice questo Sto discutendo il distacco Praticamente Tra il fatto che tu Comunque Questa qua Me l'hai fatta passare Per una vittima per mesi E alla prima occasione Di fare qualcosa di diverso La fai diventare Un bullo Cioè È quello È il distacco Che è abbastanza bizzarro Di questa Poi alla fine Chi se ne frega Perché comunque Tanto ormai non conta niente In questo senso Non conta niente Quindi tanto vale Però È lo storytelling Non c'è niente Poi Più che altro Manca un'altra cosa Ho la sensazione Che sia Che Dudrop Sarà la vittima sacrificale Praticamente Cioè Avevamo bisogno Avevamo bisogno Una da mandare Da mandare contro Da mandare contro Bianca Belair Perché tanto non puoi mandarla Dobbiamo tenere la ferma C'è lei Perché Bianca Belair Mi sa che a questo punto Va direttamente per il titolo Restelmenia Perché come giustamente Dicevano Dicevano anche Di dire guarda Bianca Adesso dovranno Tenerla un po' a caldo Serve un avversario Gliel'hanno trovato In puntata a Modino Va bene Due settimane fa Era un'altra cosa Adesso Vabbè Non è che c'era Tanto materiale Vabbè Dudrop Ok Per farla perdere Non è tanto Non è tanto Non è tanto Sì Per far perdere Bianca Tu dici nel match Tu dici Per non farle vincere Sì Per portartela un po' avanti Perché comunque Giustamente l'idea È quella Restelmenia Riaffronta Becky Con spirito Migliore Stavolta non mi freghi Ci sta È il match più grosso Che a Raw Ci sta Che tu lo vuoi fare Si spera Che si passi Da questa situazione Non facendole vincere Di nuovo la Royal Rumble Perché più che altro L'hai già fatto Lo scorso anno Questa cosa Quindi Ma fai vincere la Rumble A una Smackdown Sì esatto Fai vincere qualcuno A una Smackdown Non so chi Bisogna vedere Cosa hanno in mente Per Diciamo Per Restelmenia Per Per Charlotte Eh Lì Quello discorso We have to know Charlotte Situation Cioè Va avanti Non gli fanno nulla Arriva a Restelmenia Col titolo Contro Che non le fanno nulla Mi sembra abbastanza ovvio Francamente Però vediamo Fino a Restelmenia Sì però Se hanno l'idea di dire Guarda Arrivi fino a Restelmenia Col titolo Dire che hanno più o meno In mente uno A cui può darglielo E poi Si vedrà Ora non so Qual è l'idea Si bisogna vedere Il roster Alla fin fine Vedere chi hanno Chi hanno praticamente In quella zona Alla fin fine Da mandare contro Non so Così su due piedi Non mi viene in mente Nessuno O vai con Perché Sasha Va già Penso va da già Adesso Anche se adesso Sasha lavorerà con Shotsi Quindi Quindi si vede Eh Sasha O fai Ciò racconti Bailey Che vuol dire Ritorna Bailey E vince la Royal Rumble Quello potresti farlo Ma dite una cosa Non è che abbiamo Tanto tempo Perché comunque Mancano due mesi e mezzo Praticamente La Royal Rumble Quindi Quindi effettivamente Forse è ora Di cominciare A avere qualche piano Scusa? Benissimo Sul recupero ormai No no Non intendevo Non intendevo Fare un discorso su quello Intendevo fare Del tipo Per la WWE Sarà meglio Cominciare ad avere Già dei piani Perché comunque Siamo a novembre Alla fin fine Vabbè La Royal Rumble Tra due mesi La Royal Rumble Tra due mesi Ci siamo Quindi Ma ce li hanno Dai ce li hanno già Roman contro Lesnar Becky Belair Secondo Mi riesce difficile Credere che abbiano Qualche piano Già fisso Per WrestleMania Però Roman Brock C'è già Ce la fai Sì quello sì Quello sì Quello è vero Quello sì Ma anche Becky Belair Ma proprio per una questione Di Chi hai lì Cioè Se non ce n'è altre Da lanciare C'è già ancora Da chiudere Questa storia Mettiamola così Quello può darsi Non sono convinto Che abbiano già L'idea Di quali match Fare il primo gennaio Per esempio Quindi da lì poi Da lì poi Royal Rumble E Wrestlemania È un altro Un altro discorso Il primo gennaio Ce li ha In realtà Hai due mesi Però Vediamo cosa Però il primo gennaio Allora Il primo gennaio Il primo Roman Contro McIntyre Lo fai là Tu vuoi già Andare il primo gennaio Con il Roman Contro McIntyre Sì Primo sì Ok Cioè Secondo me Ha senso Che lo vadano Vadano in quella situazione Non vedo perché no Devono cominciare Devono cominciare Allora subito Dopo le series A questo punto L'ultimo Roll Dopo le series Dopo le series Penso che cominciano Loro due Va bene Cioè Almeno L'idea che ho È quella No può essere Può essere Può essere Series Series Di Tipende Tipende anche come Come finisce il match Delle series Cioè il 5 contro 5 Nel senso Se vince Smackdown Dai l'incentivo A McIntyre Praticamente Di candidarsi Praticamente Cioè il team Di Smackdown Il team di Smackdown Lo dicevano prima In chat E non sono Totalmente in disaccordo È fatto esclusivamente Per far Per mandare Over McIntyre Per far fare Un figurone A McIntyre Se guardi la gente Che c'è dentro È tutta gente A parte lui È palese Fatto per farlo andare In inferiorità A lui Perché lui È la priorità Di Smackdown Sì potremmo Non so Se massacra Vai Scurami Se massacrerà Il team di Raw Da solo Però È in dubbio Che la star Del match La star Del 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 team Del team Sì È perché abbiamo Nel team di Smackdown Abbiamo McIntyre Jeff Hardy King Woods Semisein Epicorbin Quindi sì Di fatto Di fatto Di fatto sì Dall'altra parte Abbiamo Rollins Balor Owens Rey Mysterio Bobby Lashley Quindi vediamo Cioè O il team di Raw Implode Implode Completamente Di Tigano Tra loro Che è una possibilità O Non so Dico anche questo Contando Sulla carta non so Come possiamo vincere Il team di Smackdown Contando quello Che ha detto Pierce Io non escudo Che Sia fatto Cioè Tutto questo casino Sia fatto apposta Per 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 far vincere Per dare Per poi fare Una storyline Con il team di Raw Che ha perso Io spero Io spero Che venerdì A Smackdown Adam Pierce Dica la stessa cosa Al team di Smackdown Sai Bipolarismo Completo Del tipo Io spero Che voi vinciate Dopo che Raw Ha detto Io spero Che voi vinciate Al team Al team di Raw Tanto Tanto che gli frega Lui dirige Entrami gli show Quindi Vince sempre Cosa gliene frega Se uno vince Rispetto Rispetto All'altro Guarda Ti saluto con questo Tu pensa Vi saluto che vada a dormire Pensate a questo Adam Pierce Comunque vada Vince C'è la sua chimica Comunque vada E come E come il banco Al casino Cioè il banco vince sempre Praticamente Il discorso è quello E poi magari Farà una battuta Moss Bruttissima E dirà Il team di Smackdown Deve morire male Ma Moss No Corbin Mi sa che è candidato A prima eliminazione Del match O lui o Semi Zane O lui o Semi Zane Sono i due candidati Praticamente Alla prima eliminazione Praticamente Di questo Sì sì Semi Zane Io guarda Vi lascio con questa Il mio sogno È il suo vero Sì Zane Che rientra con l'Itro Che gli fanno la team song Lui bravi bravi Roll up 1 2 3 eliminati Ma hanno litigato Nell'ultima puntata Non vedo perché debbano Non vedo perché debbano Essere alleati Perché Gli fanno No tranquillo Abbiamo fatto una miglior versione Per te Insulto All'ultimo Si incazza Roll up E passa uno Già sottosmetto Com'è che deve fare Che team di meglio Eh sì Effettivamente Non c'è sto grande Sembra proprio Fatta apposta Per come giustamente Diceva Sì No con me Che da che vince Rimontona da solo Praticamente Cioè rimane solo E Con Woods Magari E Rivince da 3 a 1 Tipo Cioè Rimangono di là Che so Balo Lashley Eh Sai che l'ultimo eliminato Potrebbe essere Lashley Pensandoci Perché vai con Che eravate con i due Cristoni Con Meket E Lashley Meket E Lashley E praticamente C'è la storia di WrestleMania Che non l'ha battuta E lo butta fuori A Survivor Si Esatto 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 Andrà con Nakamura Lui Deve andare contro Apollo Apollo L'ha sfidato Il primo è Apollo Sì È vero Bravo Me lo ricordavo Nel frattempo Nel frattempo Nel frattempo C'è Nakamura Però perché comunque C'è il C'è il Beccia Sì Ma il match Che purtroppo Non penso Interagiranno Non penso interagiranno Più di tanto Alla fin fine Nei due Nei due show Sarà un bel match Punto e basta Dai Sì Può essere un buon match Effettivamente Può essere un buon match Va bene Buonanotte Gianluca Ci sentiamo domani Domani sera alle 9 Per NBA Greatest Games Ok A domani Sai che è già andato 10 Gianluca Quindi chiudiamo Anche il collegamento Con Discord Ecco Un'altra cosa Che mi ero dimenticato Di dire Più che altro Parlando di match lunghi Ho detto del match femminile Anche del main event Però Onestamente Il match dei tre Mi è passato peggio L'Hate Man Tag Di inizio puntata Non so te Sì Quello è stato troppo lungo Age of Styles Troncos Dolph Ziggler Robert Rude Contro Quello è stato veramente Lungo e interminabile Troppo troppo lungo Contento che è tornato AJ Almeno è tornato AJ Quella cosa lì Contento Però sì Un po' troppo lungo L'avrei reso Un po' più corto E niente Si va verso Randy Orton e Riddle Contro Contro Ziggler E Rude Ancora Tra l'altro Mi sento No si sono già affrontati Sì si sono già affrontati Mi sembra Si sono affrontati Ma senza i titoli Ah senza i titoli Ok perfetto Allora lo fanno per i titoli Va bene E poi vabbè Poi si andrà Cioè hanno Quanto meno hanno tre team Con cui potenzialmente lavorare Cioè gli Street Profits Con cui comunque Hanno avuto un mini screzio Nel backstage Prima del match Age of Styles Troncos Perché ovviamente Sono sempre in mezzo alle balle E adesso i Dirty Dogs Che saranno i primi Le prime vittime Praticamente Del duo Quindi c'è un po' di movimento Intorno alla scena Alla scena Alla scena tag Vediamo cosa Cosa fanno Nei prossimi Nelle prossime settimane E poi Altre cose Ecco Ecco Mi è molto piaciuto Anche se da un lato Mi dà anche molta tristezza Il match tra Big E e Chad Gable Perché È stato un match Di cinque minuti In cui Chad Gable Ha fatto tipo Il 98% Delle robe E ne ha fatte anche Di belle Tra l'altro Di robe Durante Durante il Durante il match Big E gli ha fatto Due mosse E ha vinto Non riesco a capire Se hanno in mente Qualcosa con Gable Io adesso Tu che mi dirai E so già la gente Certo che mi dirà E' un jobber Morirà da jobber Non lo so Lo spero Cioè lo spero Cioè è strano Che gli diano comunque Così tanto Offensiva Però perde Però perde Sempre Questo È due settimane Che comunque Gli diano Tutta questa Offensiva L'idea Che ho È che Potrebbero Cioè potrebbe Essere La sua storyline Potrebbe essere Quella Del Che Cioè Che è una storia Da babyface Più che da heel Però La sua idea È che lui Continua a dire Che l'Alpha Academy È il meglio Del meglio Blah blah Così via Però continua a perdere Quindi magari Deve cambiare qualcosa Nell'Alpha Academy Non lo so Però comunque Mi sembra strano Vorrei Vorrei avere Il tuo ottimismo Relativamente Ma io non ho ottimismo Io dico Quello che potrebbero fare Poi è logico Che È più facile Più che potrebbero fare Il termine corretto È quello che vorresti Facessero Perché È diverso È diverso Rispetto a potrebbero fare Esatto È diverso Certo Certo Però alla fine Se devo sempre guardare Tutto al negativo E deve sempre morire Tutto in merda Vabbè Vediamo Ripeto L'idea Cioè Comunque Sono due settimane Che lo usano E gli fanno fare Un sacco di roba Cioè Quindi Boh No Più che altro La cosa Sai Il Consequenze dell'atteggiamento Nei suoi confronti Degli ultimi Degli ultimi tempi Di gran parte Della sua carriera Onestamente Lo hai visto Lo hai visto ieri In uno spot In uno spot Specifico Lui ha fatto Un fantastico German suplex Ma veramente bello Nei confronti di Nei confronti di Big E E il pubblico Era in silenzio Totale Cioè Sono le conseguenze Sono le conseguenze Del non averlo Del non averlo Busciato Sì Del non averlo Mai Usciato Tradotto Questo qui È molto bravo Ma fa delle cose Bellissime E al pubblico Gli ne frega un cazzo Cioè E purtroppo Temo che È una delle cose Che temo Vadano anche a vedere Quando proprio vedono Ecco vedi Ti diamo un'opportunità Ma al pubblico Gli ne frega un cazzo Via Eh Grazie al cazzo Gli hai fatto fare Shorty Eh lo so Hai ragione Però Non è la prima volta Non è neanche l'ultima Purtroppo Ne abbiamo milioni Purtroppo Di esempi Di questo Di questo tipo Peccato davvero Peccato Peccato davvero Però Non sono sorpreso Ripeto Ci spero che facciano qualcosa con lui Perché Ripeto Atleticamente È mostruoso Lui è Fantastico Dal punto di vista Puramente atletico Carisma Ne ha Perché comunque ne ha Indubbiamente Però Però Diciamo Si pagano anche lì Gli errori Gli errori del passato Cioè comunque Il fatto di non aversi mai puntato Allora Per fargli fare qualcosa Devi ricostruirlo Perché questo è un nano Perché questo è un nano E quindi sui nani Non dobbiamo mai puntarsi Vai scusami Ma no ma sai cosa Sai cosa Per farlo importare al pubblico Cosa devi fare Devi Farlo andare Cioè lo devi usare Tutte le settimane Gli fai fare Gli fai fare Bei match Gli fai fare Dei segmenti Dei segmenti E pian piano Al pubblico Inizia a interessare Cioè il fatto è che comunque Devi Il fatto è che comunque Il problema è che Devi Devi Fare Allora Quando Per ricostruire le persone Cioè Non è che Alla gente un interessa Buttiamolo via Devi dare il tempo Anche alla gente È vero anche che la WWE Non ha la pazienza Per fare queste cose Siamo d'accordo Carry on cross Vai Carry on cross Cosa Carry on cross Sì Se tu Gli dai Il tempo Di ricostruirsi Alle persone Pian piano Si sale Si sale E la gente Comunque Inizia a importare Però gli devi dare Il tempo televisivo Gli devi dare lo spot Devi Pazientare Pian piano La storia Che hanno raccontato In queste due settimane Di Gable È che Gable Settimana scorsa È andato da Big E a dire Con l'Alpha Academy Io posso battere Chiunque E ha perso Con questa settimana Di nuovo Ha perso Dicendo ancora La roba Con l'Alpha Academy Posso battere Chiunque E poi ha perso Tra l'altro Facendo tutto lui Sai cosa Al massimo Se posso interromperti Lì è una roba Che possono fare Magari Se vogliono mettere In fai da lui Con Otis Però anche lì Ok Fai la fai La Gable E Otis E poi Devi poi pensare A un piano A un piano Per il dopo Quanto meno Vedere se hanno voglia Di pushare O Gable O Otis E onestamente Non mi sembra Che vogliono pushare Né uno Né l'altro Comunque Devi dare Il tempo Devi dare Al tempo Alla gente Di ricostruirsi Loro Continua a dire La gente La gente dice Che Gable Non ha carisma No Non è vero Non sono Totalmente In disaccordo Sul fatto Che lui Che lui Non abbia carisma Anzi Tutt'altro Carisma Ne ha Secondo me Chiaro Se vieni massacrato Col booking Lì ovviamente Il pubblico Non risponde Nei tuoi confronti Quello è ovvio Io ricordo Che andò Che a NXT Andò over Andando in giro Con un cazzo Di asciugamano Prima ancora di andare Prima ancora di debuttare Sul ring Era over Andava in giro Con un asciugamano Esatto Esattamente Non è vero Che questo qui Non è carisma È in grado Di andare over Chiaro Se non ci punti Lui over Non ci andrà mai Quello è ovvio Lo capisci anche un bambino Che comunque Non hanno piani Per lui Come non hanno piani Per molti altri Non è solo lui Il problema Allora Il discorso è che comunque Allora Il problema Vero È che Allora Avere piani Per Se tu hai un roster Di 100 persone È logico Che non puoi avere piani Per tutti Perché logicamente Avrai Le persone Su cui punti Che sono quelle Su cui hai sempre Dei piani E quelle su cui Invece Ti importa Relativamente Perché sono quelli Che stanno Nelle retrovie E quindi Ok C'hai dei momenti In cui Magari Ci fai qualcosa Dei momenti In cui No Per carità Però c'è Probabilmente Una via di mezzo Tra Usarli per perdere E fargli fare Quattro pensi Nel catering Cioè Probabilmente Una Anche se magari Non hai piani Comunque Quanto meno Qualche idea Fatela venire Probabilmente Poi chiaro che se Se da su ti dico No guarda Questi non ce ne fregano Cazzo Ovviamente Non puoi far nulla Da quel punto di vista Probabilmente Cioè comunque Però evidentemente Per certe persone Non hanno Non hanno voglia Di far niente Quindi Piuttosto preferiscono Non mettere Non mettere Perché il fatto Il fatto del tempo La fin fine È vero che Hanno tanta gente Però hanno anche Tre ore di televisione Quindi comunque Per quanto riguarderò Più due di Smackdown Più due di NXT Quindi comunque Il tempo ce n'è Per mettere la gente In televisione Probabilmente Chiaro Non puoi mettere tutti Però magari Cioè Invece di mettere sempre I soliti 15 Praticamente Ogni Ogni settimana Anche se adesso Fortunatamente Stanno cercando Un pochettino Di cambiare le cose Vediamo già Un pochettino Più di gente nuova O perlomeno Un pochettino Più di varietà Durante gli show Potrebbe aiutarli Probabilmente Anche a tenere Un pochettino La gente impegnata Di dire Ok Questa settimana Invece che usare I soliti 15 Ne usiamo 10 Dei soliti E 5 nuovi La settimana dopo Altri 5 Li facciamo Li facciamo Tra virgolette Riposare E diamo spazio Magari Ad altra gente Cioè Creare un pochettino Più di alternanza Probabilmente Te l'ho detto Che poi magari Porta qualcosa Però almeno Fagli fare qualcosa Adesso Adesso Il prossimo giro Lo licenziano Qualcuno Qualcuno Che diciamo Se fai una roba Di questo tipo Qualcuno Con cui ti capita Magari la botta Di culo Che va over Magari uno Ogni tanto Ti capiterà Anche probabilmente Meglio di 0 Adesso il prossimo giro Lo licenziano Però Secondo me Gable Al vecchio piace Cioè L'unica cosa È che è basso Però al vecchio Non gli piace Perché comunque L'ha provato Gli hai dato Il bacio della morte Praticamente Sì Gli hai dato Il bacio della morte No sperando di no Però L'idea che mi dà È che al vecchio Comunque Piaccia lui Perché comunque Ogni tot Lo ritira fuori Eh ma di quante Abbiamo detto No no Questo Vince Piace sul ser E tutto quello Che lui cerca Poi alla fin fine Vero Vero Però di Gable Non ti sto dicendo Gable invece È proprio una roba Che lui non cerca Però ogni tot Quello si Ogni tot Gable lo ritira fuori E gli dà qualcosa da fare Non lo spinge mai Al Con il razzo in culo Anzi L'idea di spingere Nel razzo in culo Per Vince È Coso Era Era Shorty G Perché io continuo A ripeterlo Quando gli diede La gimmick di Shorty G Perché lui ci credeva Che Shorty G Potesse andare over E Gli voleva costruire Qualcosa intorno Poi non andò over Perché era una gimmick Di merda Però l'idea che aveva Vince Con l'idea di Shorty G Per lui era uno L'idea di Shorty G Era probabilmente Una roba che diceva Oh secondo me Con questa qui Tu sei Boom Vai nella stratosfera Poi ovviamente Non è successo Però Cioè Mi dà l'idea che comunque Ogni tot Cerca di ritirarlo fuori Gable Ogni tot Ogni tot Poi vabbè Ci chiedono in chat Se secondo noi Keith Lee potrebbe tornare Per la Royal Rumble Ma l'hanno appena cacciato Non penso francamente Non penso Poi mai dire mai Mai dire mai Però Non vedo perché cacciarlo E poi riassumano due mesi dopo Cioè l'hai fatto con Samoa Joe Però non è che devi farlo con tutti Esatto Ma poi L'idea che ho di Keith Lee È che Cioè La roba che era intrattabile nel backstage Non ci credo neanche se lo vedo Cioè ci credo poco Sì Fa parte del gioco Al fine Il discorso con Keith Lee È che Secondo me Un po' Ha inciso Il Il Secondo me Ha inciso Il fatto che I re-package Non hanno mai convinto Vince E Poi ha inciso tanto Il Il fatto che Comunque Si è fatto fuori Quei Purtroppo ha avuto quei problemi I problemi che ha avuto Quelli secondo me Hanno Però Però Hanno comunque inciso Però sono In più Comunque Diciamo che la strada era già in discesa da prima Purtroppo secondo me Per quanto riguarda lui Perché già Ti ricordi che ne parlavamo Quando avevano cominciato a metterlo A metterlo on screen Che tipo dopo Dopo due o tre settimane Avevano già cominciato a farlo perdere E fargli fare comunque brutte figure Poi Poi Settimane non c'era nemmeno Quindi Cioè È una situazione molto strana Poi abbiamo visto Vabbè Il video di Vince Che gli dice Abbiamo piani per te Ma devi farmi credere E ho detto Boh ok Croce sopra Croce sopra Eh vabbè Allora Il discorso Il discorso è anche questo Allora Kifli piace a tutti Siamo d'accordo Piace tantissimo anche a me Il discorso è anche questo Non tutti Allora Che Vince abbia delle idee del cazzo Siamo tutti d'accordo No più che idee del cazzo All'idee L'idee del cazzo è Cioè è giusto Ma è anche sbagliato Perché il termine corretto È quello che sia Idee Antiquate Perché comunque Oh Cioè Torniamo sempre lì Oh questo 76 anni Cioè è normale Che comunque Che comunque abbia Abbia Cioè una persona di 76 anni È difficile che cambi idea Su qualcosa Cioè è molto complicato Che cambi idea In generale Figuriamoci Figuriamoci Nell'ambito Dove sei cresciuto Per Professionalmente Per Per 30 anni E dove Una certa determinata cosa Ti ha sempre comunque Portato al top Non direi Idee del cazzo Semplicemente Non hai più il polso La situazione Perché Ha 76 anni E purtroppo È Diciamo L'effetto collaterale Di avere Di avere comunque Vince Con la comando Scusami Vai avanti Allora Il discorso è che comunque Spiace Però Lui non ci ha visto nulla Allora Il discorso è anche questo Ed è un discorso Che abbiamo fatto Nel caffè L'abbiamo fatto Ci abbiamo parlato Un'ora e passa Di più anche Sì esatto E anche di più E sono cose che ripetiamo Ogni Ogni volta Ogni cazzo di volta Perché Perché va detto Perché comunque La compagnia Fa anche sempre Gli stessi errori Quindi A parte quello A parte gli errori È una battuta È una battuta È una battuta Concettualmente La WWE È sempre stata quello Sì Non ha mai puntato Sul wrestling Ha sempre puntato Sul personaggio Sul brandizzare Un personaggio Sul rendere speciale Un personaggio Per portarlo A un livello successivo Anche Il wrestler Più wrestler Che hanno avuto Negli ultimi dieci anni Che è Daniel Bryan L'hanno comunque Brandizzato Loro Loro Bryan Per loro Non era Un wrestler Della madonna Era lo yes man Sì Il discorso è che comunque La WWE E l'abbiamo detto Anche Nell'attitudera Che è L'era più bella Della storia Del wrestling Il wrestling Di qua Il wrestling Di là Il wrestling Bello Era quello Dell'attitudera Del ring Non gliene fregava Un cazzo Ma non le fregava Un cazzo Neanche Alla WCW Perché se voi Andate a vedere E' vero che la WCW aveva i cruiser Con cui apriva lo show E facevano i killer match Ma chi era la gente Che tirava? I soliti Gli omoni Alla fin fine Andiamo Ma neanche gli omoni I personaggi I personaggi I character E tutte queste cose qua Ok Però Però generalmente Le caratteristiche fisiche Di questi personaggi Quali erano? Che erano Che erano Omoni Ok Però aspetta Aspetta Però il discorso È che comunque Si basa sempre Sul personaggio Il personaggio È la cosa che deve tirare Se tu riesci a crearti Un personaggio Che è brandizzabile O che comunque Riesce a portarti A un livello successivo Riesce a farti diventare Larger than life Tu riesci a emere Tu sei quello che funziona L'ha scritto anche Nella Nella Anche nella Nel caffè Nei commenti C'era un commento giusto Non mi ricordo chi l'ha fatto Che diceva Alla fine Se vai a vedere Nell'attitude Alla fine Se vai a vedere La WCW Ha sempre proposto Dei match della Madonna Perché ti proponeva Flair contro Steamboat Ma la WWE Diceva Al Kogan E al Kogan Andava meglio Di questi qua Perché Era un'altra cosa Alla WWE Non gliene è mai fregato Un cazzo Del wrestling Alla WWE Gliene frega Di trovare Il personaggio Larger than life E questo è Il discorso Purtroppo E ripeto Spiace Spiace Purtroppo Con Keith Lee Con Keith Lee Carry on cross Vince Non ci ha trovato Un cazzo Per riuscire A trovargli Qualcosa Anche la gimmick Del limitless Però Cos'è la gimmick Del limitless La gimmick Del limitless È lui che dice Io non ho limit Io faccio il cazzo Che mi pare È brandizzabile Per loro? Evidentemente no Perché se no Sennò sarebbe ancora Sto contratto Non è brandizzabile Purtroppo Ed è Cioè Il problema è Quello A NXT Funzionava A NXT La gimmick Del limitless Funzionava Perché NXT Era un prodotto Sportivo Era un prodotto Dove era Tutto basato Sul work rate E sul wrestling E quindi Funzionava tutto Permettimi però Se non ritieni Brandizzabile Un omone Grande e grosso Che fa Veramente Fa Cose Che un omone Grande e grosso Non dovrebbe fare Da punto di vista fisico C'è qualche problema Probabilmente Dal loro punto di vista Perché comunque Se tu prendi Cioè Se tu prendi Un omone Grande e grosso Agile così Che comunque Sa anche parlare Perché comunque Sa anche parlare Kifli Al microfono Evidentemente c'è qualcosa Che non va Alla fin fine Perché mi sembra strano Che comunque Una persona Che è in grado Di fare le cose Di Kifli Non riescano A marchettarlo Dal punto di vista Dal punto di vista Cioè Non riescono a venderlo Praticamente Dal punto di vista Del marketing Non so cosa Non ci abbia visto Allora Ripeto Lì non ho capito Lì non ti posso sapere Che cosa No beh chiaro Siamo a livello Di supposizioni È un pur parley Alla fine Mi sembra strano Che Mi è sembrato Molto strano Che comunque Non Cioè Abbiano tentato Prima di Prima di Ribrandizzarlo Con la roba Del Berkett Di farlo lottare Evidentemente In modo diverso Perché comunque L'ultima parazione L'ho lottato In modo molto diverso Rispetto Rispetto all'epoca L'abbiamo rispedito Al performance center Per imparare a lottare Mi sembra assurdo Francamente Per uno come lui Però vabbè È successo È buonanotte È buonanotte Non sapendo cosa Per ovvi motivi Non sapendo cosa è successo Dietro le quinte Siamo lì Siamo qui a parlare Mi sembra Una grande occasione Mancata Da parte della compagnia Poi Non è la prima Non sarà neanche l'ultima Purtroppo Quello siamo Assolutamente D'accordo Quello siamo Assolutamente D'accordo Che sia un'occasione Mancata A Kifli Non lo metto In dubbio Non lo metto Minimamente in dubbio Non è che ti sto dicendo Che hanno fatto bene Secondo me Il discorso di Kifli È rientrato È che Vince non ci vedeva Un cazzo Perché purtroppo Non ci vedeva un cazzo Ok Lui ha 37 anni È vero Non è vecchio Ma Ha avuto il problema Il cuore Che l'ha tenuto fuori Per sei mesi Non ci vedo un cazzo Potrebbe ricapitare Il problema cardiaco Che tra l'altro È apparso Col covid Blah 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 E tutto il resto Però è andato via Senza sapere Come è andato via Quindi potrebbe tornare Evidentemente Lì a quel punto Ti possono Lì Tu guardi A livello A livello Di una Di un'azienda Che non gliene frega Un cazzo Del Magari ci posso fare qualcosa Allora interessa Il guadagno effettivo E li han detto Ok Il gioco non vale la candela Potrebbero aver fatto Questo ragionamento Non sto dicendo Che sia giusto Ti dico solo Il ragionamento Che potrebbero aver fatto Quando hanno visto La cosa Se poi andiamo a prendere Per esempio Carry on cross Lì è un altro paio Di maniche Lì hanno sbagliato Ha cannato Tutto quello Che potevano cannare E lì siamo d'accordo E lo dico da uno Che Quando mi han detto Carry on cross E' andato via Dalla WWE Mi risposta E' stata Vabbè Ne ho parlato male Ne parlo male Da tipo Da quando è diventato Per la prima volta Campione NXT Non è che adesso Mi metterò a piangere No 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 Il problema di Carry on cross E' Noi ne abbiamo passato Anche comunque Mese Durante Durante Il suo stint NXT A dire che comunque C'era qualcosa Che non andava Nel senso che comunque Per un motivo Per l'altro Lui comunque Non Non cliccava Con il pubblico Era un campione Tra virgolette Noioso Se vogliamo utilizzare Questa definizione Detto questo E detto Comunque Dei suoi limiti Che possono esserci Dal punto di vista L'ho lottato Dal punto di vista Del personaggio E però Assolutamente In dubbio Che lui è stato Gambizzato Quando è arrivato Nel main roster Cioè Veramente Non gli è andato Neanche una chance Praticamente Nel main roster Quindi Cioè Il licenziamento Io non me la sento Di attribuirlo Vedi anche tu Ovviamente A colpe di Carry on cross Che potrebbe anche avere I limiti Che potrebbe anche avere Adesso che va Aldi fuori Del mondo Da WWE Semplicemente Si sono portati I programmi in caso Cioè comunque Col trattamento Che gli hanno fatto Alla fin fine Poi probabilmente C'è anche la questione Di vaccini Che comunque Probabilmente La questione di vaccini Comunque secondo me Ha aiutato Esatto Esattamente Però dall'altro lato È anche vero Che comunque A livello di trattamento Veramente hanno sbagliato Tutto Con lui Nel main roster Il risultato finale Praticamente È la conseguenza Diciamo Degli errori Molto gravi Che sono Stati fatti con lui Già dall'inizio Tutto qui Sì Tutto qua Però c'è Però ripeto Nel main roster Sì A NXT Con lui Non hanno sbagliato Un cazzo Però a NXT Non funzionava Per niente Lui Sono ulteriori Sono ulteriori Anche testimonianze Probabilmente E l'abbiamo detto Credo anche Domenica Quando abbiamo registrato La puntata Del caffè Del peso Politico Di Triple H O meglio Dell'assenza Del peso politico Di Triple H O della grossa riduzione Quanto meno Del peso politico Di Triple H Negli ultimi mesi Perché è indubbio Che comunque Cioè Gli hanno cacciato Praticamente tutti i suoi Siamo quasi tutti via Non tutti Però Buona parte comunque Di quelli Su cui aveva puntato NXT Non ci sono più In questo momento A parte Vabbè Ancora che se n'è andato Però Però comunque Buona parte Gli stanno Togliendo Mi chiedono Perché sono così aggressivo Date una calmata Divento aggressivo Lui è sempre così È sempre così Divento aggressivo Quando Gianluca Parte a dire Che è tutto merda A prescindere Facendomi capire Che non ha guardato Gli segmenti Della show Vabbè Allora Lo faccio Lo faccio anch'io Però La mia Cioè Il discorso è questo È vero Che devi sempre Cercare il lato positivo Però ci sono Ci sono delle situazioni In cui Non penso ci sia Il lato positivo Quindi non riesco A essere positivo Su certe cose Vuoi anche Probabilmente Per Diciamo Non voglio dire Esperienza Perché comunque Sembra Sembra che mi do delle aree Che poi in realtà Non ho Non ho e non merito Praticamente Ma più che altro Vedendo più che altro Il Diciamo Il pattern Praticamente Della compagnia Cioè comunque Questi veramente Fanno sempre le stesse cose Quindi Su certe cose ormai L'andamento Lo vedi Quindi L'andamento Lo vedi E l'hai già visto Più che altro In passato Quindi Purtroppo Temo di Temo di fiutare Praticamente Il brutto Il brutto finale Sfortunatamente Quindi su certe cose Non riesco a essere positivo Perché comunque Non vedo Il lato positivo Di certe cose Quindi Quindi Su certe cose Su altre cose Sono più possibilista Più che altro Mi rendo anche Sempre Sempre più conto Purtroppo Che la La politica Let it play out Purtroppo Non paga Per quanto riguarda La Davide Perché su molte cose Diciamo Lasciamo andare avanti La storyline Vediamo che fanno E poi alla fin fine Non fanno assolutamente niente Quindi O perlomeno Il finale Poi alla fine Dell'udente Quindi Quindi Anche perché Va detto Tra virgolette A loro parziale difesa Ma non è una difesa Anzi È un'accusa È inutile che ci Che ci poniamo il dubbio Vediamo come ci esiste una storia Se poi questi cambiano la storia Quattro volte Nel giro di una settimana Quindi Alla fin fine Lascia un po' il tempo Che trova Anche l'atteggiamento L'atteggiamento Diciamo di vedere Di vedere quello che succede Tutto qui Tornando a Rho Praticamente Di ieri sera Ritorniamo sulla Sulla puntata Non c'è molto da aggiungere Sulla puntata Pensando Vi ha coperto Perché alla fine Facendo i match lunghi Sì è vero C'è meno segmenti E sono meno segmenti E quindi c'è meno Come dire Il five way Delle donne È la fin fine Lunghino Meno rispetto Per esempio All'interminabile Hightman Inizio puntata Però comunque Però comunque Diciamo lunghino Anche questo Vediamo cosa fanno Con Liv Morgan Ripeto Poi magari fallirà Però almeno Le danno un'opportunità Cioè la fin fine Era quello che chiedevano Il pubblico del web Era quello che chiedeva Cioè almeno Datelo un'opportunità A questa povera ragazza Cioè provatela Se poi non funziona Pazienza Però almeno Almeno datele un match Cioè date la possibilità Di far vedere Quello che ha imparato a fare Quello che sa fare Quello che non sa fare Eventualmente In questa faccenda Vediamo un pochettino Vediamo un po' come Come va a finire Questa faccenda Vediamo come va a finire Io ho l'errore Dei suoi promo Perché se li fa Come a papa Promo non è brava lei No non è brava Più che altro Lei nei promo Becky secondo me Se la mangia Quindi dovranno stare Molto molto attenti A cosa le fanno dire E a come sviluppare Praticamente i segmenti Tra le due parti Praticamente In vista In vista del match Del match situato O la buttano sulle risse Cioè tipo Loro due che si menano O effettivamente Sui promo Becky dovrà Dovrà aiutarla molto Perché Nelle cose che dice Nelle atteggiamenti Tutto il resto Perché se no Perché tra le due Le doti microfoni Cioè Le doti microfoniche Delle due Sono parecchio distanti Temo Poi vediamo Poi magari sbaglio E poi magari ci tira fuori Il condito dal cilindro Continuo tra l'altro A farci vedere I promo di Virman Soprì chi stessi Tratti i promo Di Virman Di Virman Che ha aggiunto il cognome Quindi sta Sta compagnia A volte è veramente È veramente strana Ad altri Toglgono il cognome A Virman Non ha aggiunto Cioè Vir non andava bene Doveva essere Virman Mentre invece ad altri Tipo Angel E Umberto Angel Garza Umberto Carrillo Il cognome è sparito Mi ha fatto Mi ha fatto molto ridere Tra l'altro il tweet Di Il tweet di Big E Tipo Benvenuti Benvenuti nel club Le riunioni sono una volta al mese Vi dobbiamo dire Cosa Dovete portare Tipo Gli alcolisti anonimi Mi ha fatto molto ridere Questa Questo Quando perdi il cognome Poi è un bordello Eh sì Insomma E come All'anagra È come quando togli Come quando togli il gesso Ti manca Ti manca poi Alla fine Un pochettino Perché ti abitui Ti abitui ad avere Ad avere un gesso Sei contento che l'hai tolto Però per un certo periodo Comunque un pochettino Ti manca L'abitudine Ad avere Ad avere il gesso In un braccio In un piede O in una gamba No Non c'è nient'altro Stavo guardando Domenica c'è il Tremi To the troops Hanno pubblicizzato Un pochettino Ieri sera Durante Durante la puntata Durante la puntata Di Ro Andare in onda Domenica In orari diversi Ho visto che In un mercato Va addirittura in onda Mezzanotte e mezza Su Fox Quindi È un orario Un pochettino Un pochettino strano Perché Diciamo I collegamenti locali Praticamente di Fox Domenica con il football americano Sono un po' particolari Da zona Da zona a zona E quindi è una situazione Un po' Diciamo Come posso dire Un po' Un po' bizzarra Un pochettino Un pochettino Un pochettino Un pochettino Inusuale Quindi sarà anche Un pochettino più difficile Magari ottenere i dati di ascolto Per quanto riguarda Per quanto riguarda Il Tributo dei Troops Che andiamo in onda su Fox Nella giornata di domenica Vediamo ancora Ricordiamo C'è l'importo Sì È uno show fuori cano Alla fin fine Tra l'altro Tra l'altro ecco Parlando di Liv Morgan Liv Morgan ha appena vinto Il titolo di number one contender Al Tributo dei Troops Che è stato registrato Come ha detto Un mesetto fa Più o meno Affronta Bianca Belair E molto probabilmente perderà Quindi non un gran modo Per lanciare La sua La sua Diciamo La sua posizione Nella number one contender Ma vabbè Ricordiamo i match In programma di NXT Per il programma di NXT Di questa Di questa notte Ikemenjiro e Kushida Affronteranno I fratelli Creed Questo può essere molto bello Ritorna sul ring Electra Lopez Però non hanno detto Con Non hanno detto con chi Hanno detto che sarà sul ring Ci sarà Anche Pete Dunne Però dicono che farà un promo Alla fin fine Giudicando da quello che scrivono Sui canali Sui canali social Kay Lee Ray contro San Ray Boa contro Joe Gacy E poi abbiamo Il Six Woman Tag Six Woman Tag Con Mandy Rose Jessie Jane E Gigi Dolin Contro Yoshirai Caden Carter E Casey Catanzaro E ne so soltanto un altro Yoshirai che ha rivelato Che odia queste due Più di Zoe Stark C'è qualcuno Che Yoshirai Che Yoshirai apprezza Praticamente Il suo gatto Probabilmente No vabbè Su fidanzato magari anche Probabilmente Perché Un fidanzato molto 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 malvagio Diciamo Molto Molto evil Se vogliamo utilizzare Questa Questa Questo 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 gioco di parole Se vogliamo E altre cose Altre cose Per Per quanto riguarda La puntata di NXT Fatemi vedere se è stato annunciato Qualcos'altro Per la puntata di questa notte No Abbiamo annunciato tutto Quattro match annunciati Più il match di Electra Lopez Che vediamo contro Contro Conto chi sarà Mentre per quanto riguarda Per quanto riguarda Dynamite Di questa settimana Vediamo se c'è Se c'è l'elenco dei match In programma Questa settimana Solo che c'è il match Di Danielson Contro Rocky Romero Esatto Esattamente E poi C'è anche altro Sospetto che vado un attimo A vedere Vado un attimo A vedere L'elenco Vabbè c'è la firma del contratto Fiume del contratto Tra M&Page E Kenny Omega A tre giorni Dal A tre giorni Dal pay per view Poi abbiamo Britt Baker Jamie Hayter E Rebel Contro Ty Conti Anna Jay E Thunder Rosa Mezzai Dell Lily Moriarty Contro Dante Martin E Leo Rush Al debutto a Dynamite E Pac Contro Dax Harwood Questi sono i match In programma Praticamente Domani Per quanto riguarda La puntata di Dynamite Che è in diretta Nella notte Tra mercoledì e giovedì Su Fight Su Fight TV Su AW Plus Mentre invece Per quanto riguarda NXT Non è disponibile In diretta legalmente In Italia Lo potete vedere Da domani mattina Su Discovery Plus Oppure nella notte Tra mercoledì e giovedì Alle 4 del mattino Viene uploadato Sul WWE Network Per noi Per noi italiani Mi fanno notare Che su tutto dell'AW Sai Il tuo nemico Lo conosci bene Devi conoscere Il tuo nemico Non è vero In realtà Guarda i match Di Danielson Alla fin fine Esatto I match di Danielson Li guarda Danielson Romero Può Non penso Sarà particolarmente lungo Anche se non ho visto Non ho visto Quello di Dark Quello di Dark Non ho visto E quello di Dark Non male Quello con Dustin Quello con Dustin Non male Cioè è un match Molto old school Quindi È proprio La classica storia Del vecchio leone Che ha praticamente La sua ultima chance Se vogliamo Dobbiamo utilizzarla È Danielson Che lo affronta E Comunque Alla fine Poi vince E non ho visto Quello di Dark Probabilmente Che era No non ho visto Anche quello di Dark Brian Danielson Contro Aaron Solo L'ex L'ex fidanzato Di Bailey E poi vabbè Bisogna vedere Quando Bisogna vedere Quando Manderanno Praticamente Il match Che lui ha Fatto Praticamente In maschera Che Il match Nei panni Di infinito Che era Chiaramente lui E E niente Cioè Stavolta ci sono Stavolta ci sono Praticamente Cole i Bucks L'Inner Circle Il Lucia Ah no Il Lucia No cazzo dico È rotto Full Gear Questo Niente Dark Dark Venendo poi dopo C'era Dark Elevation Ma era un'altra Era un'altra cosa Vabbè Questo per quanto riguarda Per quanto riguarda L'AW Poi questo weekend Ricordiamo L'appuntamento con Full Gear Nella notte tra Sabato e domenica Alle due Con Il buy-in Dal Luna Visibile legalmente In Italia Solamente su Sky Perché da Questo pay-per-view Non è più possibile Comprare I pay-per-view EW Su Fight.tv Ma C'è una sorta di esclusiva Per quanto riguarda Per quanto riguarda I pay-per-view EW Per quanto riguarda Per quanto riguarda Sky E lo potete comprare Al costo di 9 euro Ricordiamolo L'unico modo legale Per vederlo È Sky Sky Per il pay-per-view C'è un modo legale Per vederlo in Italia Sì esatto C'è un modo legale Per vedere il pay-per-view Per il pay-per-view Però bisogna passare Bisogna passare Obbligatoriamente Obbligatoriamente Da Sky Perché evidentemente Vale per diversi territori Nel senso che comunque Evidentemente Altri territori Di Fight Praticamente Dove vendevano Il pay-per-view Della EW Fino al pay-per-view Scorso Si vede che I detentori dei diritti O la stessa EW Ha detto No non vendeteli qua Perché abbiamo comunque Dei partner televisivi Quindi vogliamo tutelarvi Probabilmente Che è sensato Infine È la stessa cosa Che succede per esempio Per la box Per la box Ci sono degli eventi Di cui Fight Ha i diritti Che in certi territori Non vanno in onda Perché hanno i diritti Altre Diciamo Altre 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 televisioni Praticamente Tipo C'è stato un evento Di box Che è stato trasmesso In Italia Che nel resto del mondo Non vengono su Fight Quindi Quindi ci sono Diciamo diverse situazioni Per quanto riguarda Per quanto riguarda I diritti È una cosa Chiesta da Sky Non lo so È possibile È altamente possibile Perché Comunque Evidentemente Ritengo Se è stato così Presumo Non so Se è stato così È altamente possibile Che sia stato così Perché Evidentemente Presumo Che Sky Ritenesse Che Fight Di portarsi via Qualche acquisto Non lo so È una cosa Che tra l'altro Personalmente Non mi trovo Molto d'accordo Più che altro Per un semplice motivo I paperbino su Fight Costano il doppio Rispetto a Sky Perché su Sky Costano 9,90 E su Fight Costavano 20 Quindi Non so Quanto Quanto portava via Effettivamente Diciamo A Sky L'acquisto Dependenti su Fight Però Evidentemente Se hanno preso Questa decisione Se hanno insistito Per questo Evidentemente Avranno fatto Il loro conto Vediamo Secondo me Sai anche cos'è Sai cosa Magari non gliene fregava Un cazzo Magari non gli portava via Gli ascolti Tutto il resto Se ne sono accorti Se ne sono accorti E hanno Praticamente Insistito Allora Perché secondo me Sai qua Sono rimasti scottati Da un altro Un'altra Piattaforma Over the top Che gli inculava Gli inculava Ascolti Gli inculava Introiti Quando ho scoperto Che c'era Anche qua Hanno detto A questa volta No Secondo me è quello Perché sono rimasti Scottati Al WWE Network E sapendo Che la gente Comunque può andare A prenderlo Da un'altra parte Hanno detto Eh no Vogliamo l'esclusiva Potrebbe essere quello Ci chiedono Se NordVPN Non ci sponsorizza ancora Abbiamo chiesto Ci hanno detto di no Abbiamo chiesto Ci hanno risposto di no Ci hanno risposto di no Quindi no Alla fine Alla fine Nel nostro Non siamo Non siamo A un livello interessante No Non voglio Non ci Siamo Siamo troppo poco Mainstream Esatto Esattamente Però Però Se volete guardarvi L'AW Su Fight Potete usare NordVPN Esatto Esattamente Ma anche se volete vedere La WWE Su Peacock Non vedo perché Dovreste farlo Perché Non lo so neanch'io Perché Non vedo perché Dovreste farlo Francamente Perché Peacock Peacock fa schifo Innanzitutto Primo Secondo C'è il WWE Network Quindi non vedo perché Dobbiate spendere Per una VPN Per vedere La WWE In secondo luogo Lo stesso vale anche Per l'AW I pay per view C'è capito Magari non volete Fare l'abbonamento a Sky E mi va benissimo Perché comunque Capisco che La spesa per Sky Però la pay per view Su Fight Costa 20 euro Cioè la pay per view Costa tanto Su Sky Scusatemi Su Fight I pay per view E IW Costano il doppio Rispetto a Sky Quindi Alla fin fine Probabilmente con i soldi Che spendereste Di pay per view Di pay per view Su Fight Alla fin fine Ci fate l'abbonamento a Sky Non subito Alla lunga Praticamente Ci coprite Praticamente Ci coprite Praticamente Dicono che Fight blocca Blocca le VPN Quindi non si può fare Neanche con No VPN Vabbè Su Facebook Si può vedere Full Gear No Su Facebook Non si può vedere Full Gear No Su Facebook Assolutamente no Su Fight Blocca le VPN Onestamente Non mi risulta Cioè Ci sono moltissimi Sì ma non legalmente Cioè Non me ne farei niente Di quelli che non si possono Io parlo di Noi promuoviamo Non me ne frega Ma questa 20 euro Su Facebook dove Scusatemi Ma su Fight Tu dici Fight non vende su Facebook Fight vende Vende sulla sua piattaforma Non su Facebook Comunque Il discorso Dicono che no VPN Sponsorizza cani e porci Eh ma noi Noi evidentemente Siamo peggio Dei cani e porci Ma No Fight vende Con la sua piattaforma Poi magari mette Il link su Facebook Ma poi ti rimanda Comunque al sito Alla fin fine Cioè Non Non si appoggiano A Facebook Per i Per i Per i Per i Alla fin fine Sì ma ti rimanda Al sito Cioè ti manda Comunque su fight.tv Alla Alla fin fine Cioè Non è Non è Quello il Non è Quello il Il problema Alla Alla fin fine Ti rimanda Se 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 sono loro Cioè se sono Se sono Se sono sempre Fight Praticamente Ti rimandano Ti rimandano Praticamente Alla Ti rimandano Praticamente al sito Aspetta un attimo Vediamo un po' AW Full Gear English Language International Version Live on pay per view Vediamo un attimo Perché adesso Sono incuriosito Vediamo un secondo Ehm Ma è non da assolutamente Eccolo qua Live on pay per Evento online Evento online 0 amici 101 invitati Evento di Online con Facebook Qui sta gesto con 21,99 Ehm Vabbè È una roba Siamo sicuri che sia Siamo sicuri che sia Effettivamente Sua Perché Mi sa di Mi sa di Sola Questa Questa cosa Però vediamo Vediamo un po' Vediamo Vediamo un pochettino Disponibile in Canada Ah no È disponibile Ah non è disponibile Infatti Canada India Israele Italia Stati Uniti Sono i territori Dove non possono Trasmettere Sono gli eventi di fight Praticamente Alla Alla Fin fine Non vorrei che sia Praticamente Cioè Sempre Che sia Ci sia sempre fight Dietro Alla fin fine A questa A questa Cosa E E E Praticamente Rimano Lo stream Anche su facebook Live Abbastanza bizzarra Questa cosa Non lo sapevo Grazie che mi hai fatto Questo contratto Costa 21,99 Costa anche di più Tra l'altro Rispetto Rispetto a Rispetto a fight Prima volta Prima volta Che fanno una cosa Di Una cosa Di Di Questo tipo Ah 19,99 Sì Alla 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 Fine Mi sa che sono sempre quelli di fight Alla fin fine Che fanno Che fanno Lo stream Che solo Mendano anche su facebook Prima volta che lo fanno Perché non è Non l'avevo visto Non era Non era Diciamo Non è Non è così Adesso vediamo se Se effettivamente la pagina La pagina La pagina loro Sì è la pagina loro Effettivamente Viene rimandata la pagina loro Vediamo Buono Buono sapersi Non lo sapevo Non so neanche come funzioni Tra l'altro A livello di A livello di pay per view Perché Di eventi in pay per view Su facebook È la prima volta Praticamente Che Cioè È una cosa nuova evidentemente Perché non mi risultava Che ci potessero fare I pay per view Su facebook live Comunque Buono Buono per loro Se restano a farci questo Comunque vabbè È sempre È un modo per vederli Però Purtroppo Ripeto In Italia Non vale Non vale per Canada, India Israele Tra l'altro È abbastanza 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 strana Allora Ci chiedono Se lo mettono su Da qualche parte Walter contro Cesaro Lo si guarda a prescindere Allora Secondo me Questa Cioè Lo sta promuovendo Allora Loro hanno detto Che l'ha registrato a Liverpool Sì No Però Se guardi Se guardi anche le riprese Sono riprese Da bordering Fatte in modo abbastanza particolare Secondo me Ci fanno Il 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 documentario No filter Praticamente Poi magari ti fanno Anche vedere il match Però Ovviamente Non penso che sia ripreso In modo professionale Come proprio con le riprese Classiche Da Da match di wrestling No Sarà una roba un pochettino Un pochettino diversa Probabilmente Però Vediamo Vediamo cosa Se lo facessero vedere Lo guarderei Per quanto Lo guarderei Lo guarderei Molto volentieri C'è comunque Un bel Un bel confronto Che mi è stato Intervista di Eddie Kingston Non l'ho letta Me l'hanno Me l'hanno Me l'hanno anche linkata Ringrazio Anzi Alessia che me l'ha linkata Su Twitter Però Non Non l'ho ancora vista Non l'ho ancora vista Non l'ho ancora letta Più che altro La leggerò poi Più tardi Prima Prima di vedere Nexty Gli darò un'occhiatina Mi piacerebbe Vederlo vincere Onestamente Contro Come si dice Con Con CM Punk Rimango scettico Ma sarebbe bello Vederlo vincere Vediamo cosa Vediamo cosa fanno A full gear Alla fin fine Con lui Boh Non abbiamo altro Da aggiungere Stavo cercando Un canale Da raidare Aspetta un secondo Che fammi vedere Se trovo Se trovo qualcosa Praticamente Di Di raidabile Praticamente A quest'ora Così almeno Vi dirottiamo Vi dirottiamo Praticamente A qualcosa Eh ma in italiano Non c'è una mazza Praticamente Di canali italiani Sportivi Quanto meno Intendo Non tanto Non tanto Non tanto Diciamo Di Come si chiama Di Non mi viene Non mi viene il termine Di Di canali Di canali stranieri Perché canali stranieri Alla fin fine Lascia un pochettino Il tempo Il tempo che trovo Mi piacerebbe Tra l'altro Mandarvi Mandarvi Diciamo Su un Su un canale Magari Non con tanti ascoltatori Ma con Con un po' pochi Così almeno Solleviamo Un pochettino Un pochettino La situazione Vabbè Cerco qualcosa Durante la sigla E poi E poi E poi vediamo Grazie per Averci ascoltato Fino a questo momento Grazie Gianluca Rouge Grazie a Mattino Che ci ha fatto compagnia Fino a questo momento Grazie a voi Ci sentiamo Settimana prossima Con un'altra Scoppiettante puntata Di Raw Con tanti insulti Domani sera Alle 9 Facciamo NBA Games O' The League Se voglio unirti Anche se Ti anticipo Ti anticipo Che non ci sono Immagini dei Knicks Questa settimana Quindi purtroppo Allora io non guardo Le puntate Guardo solo i Knicks Purtroppo ci sono Highlights Di tutte le altre Di tutte le altre partite Ma tranne Abbiamo pure perso Stasettimana Abbiamo pure preso Ci sono highlights Delle partite Domani sera Praticamente Per chi non avesse visto La settimana scorsa Innanzitutto è una cosa Che tra l'altro Non sarà disponibile On demand Quindi dovete vederla Solo in diretta La faremo solamente Dalle 21 in avanti Dalle 21 Alle 22 10 22 15 Commenteremo gli highlights Della Dell'ultima settimana Di NBA Gentilmente concessi Dall'NBA Che concede Agli streamer Di Twitch Di ritrasmetterle Di commentarle E niente Commenteremo la settimana Appena passata Del campionato Del campionato NBA Vi lasciamo Un grande falso storico Che io ci capisco Qualcosa di NBA Io non ci capisco Vabbè che secondo te Noi capiamo di NBA No 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 Ma tipo Non so Cioè la volta C'è la gente che fa Cosa ne pensi Questo giocatore La mia risposta è Ok Sì ma io non ci capisco Un cazzo ragazzi Guardo solo i Knicks Ma non ci capisco Veramente un cazzo Ok va benissimo Ok se già non capisco Un cazzo di wrestling Figurati di Figurati di basket Alla No vabbè Sei un tifoso Praticamente Degli Come si chiama Degli Sono un tifoso di New York Però non sono Uno che è Un die hard fan Esatto Esattamente Dai Esattamente Dai Va bene Ci sentiamo Come detto Domani sera Dalle 21 Per parlare di NBA Per un'oretta circa Con il wrestling Ci sentiamo nel weekend Comunicazione di servizio Magari possiamo fare La registrazione in più parti Questa settimana Tipo sabato Sabato io e te Facciamo NXT Smackdown Le notizie Poi domenica Con Gianluca E Facciamo una parte Di full gear Vediamo un po' Io Per me non è un problema Tanto io penso Di essere a casa Tutto il weekend A lavorare Benissimo Benissimo Sono anche In realtà Sarai anche disponibile La domenica Però al solito Se Se mi Se mi Salto tutta la parte Dove non parlo A me non è Cambia molto Dai Vi mando Vi mando su un canale Se mi Permette di Permette di farlo Vi mando su un canale Dove si gioca football manager Per me lo vedete Un pochettino Come 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 si sta andando Praticamente In questo In questo In questo momento Grazie per averci ascoltato Vi lasciamo con la sigla E ci sentiamo domani sera Per l'NBA Con il wrestling Nel weekend E poi Settimana prossima Con il post show Di Monday Network Martedì sera Dalle ore 22 circa Grazie per averci ascoltato Buonanotte Alla prossima Ciao Grazie per averci Grazie per averci E lascialo entrare quando vuoi I pupazzi della tua casa Sono uno più brutto dell'altro Han formato un arcobaleno Tutto splendido Che merda Magico Magico Wyatt Magico Magico Wyatt Arriva e mena Mene Arriva e quando vuoi Mi scomparirà Magie 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 di Wyatt Magie 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 di Wyatt Magie 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 di Wyatt Oh, magia di Wyatt! Rest in caffè by night, vi è stato offerto da... Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione Monoblocchi per zona cottura, lavello, frigoritero o congelatore Lavastoviglie da 45 centimetri, con trasporto e montaggio Finalmente qui li scegliete voi Facciamo i conti? Porti via più monti tu Uguale prezzi d'ingrosso FBA di Bruno, corso potenza 183 Angolo di Alucento, Torino Grazie Grazie a tutti.